Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo evento profondamente significativo il cui titolo è One Brain One Health, la strategia italiana per la salute del cervello 2024-2031. Oggi 12 di marzo, siamo quasi al centro della settimana mondiale del cervello 2024 e non è un caso ovviamente che questo evento sia stato organizzato per questa giornata. Le malattie neurologiche e le malattie mentali colpiscono ad oggi circa metà della popolazione italiana, mentre a livello mondiale, a livello planetario rappresentano la principale causa di disabilità, la seconda di mortalità. Questo significa anche un carico sui vari sistemi salute mondiali e all'orizzonte non c'è, come dire, un miglioramento. Non si prevede un miglioramento perché le aspettative di vita migliorano, ma questo significa anche un invecchiamento della popolazione e quindi una maggior incidenza e rilevanza di queste patologie. Oggi, nonostante questo e nonostante l'attenzione verso il cervello stia aumentando in generale verso la salute del cervello, il cervello rimane orfano, quasi universale, di strategie per promuoverne e conservarle la salute. Per questa ragione, in questa settimana, la Società Italiana di Neurologia lancia questa strategia italiana per la salute del cervello, attraverso la quale vuole implementare in Italia, nel nostro Paese, il piano globale di azione per l'epilessia e le altre malattie neurologiche voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E questo per fare in modo che l'impatto di tutte le malattie del cervello si alleggerisca. Per fare questo, la strategia prevede un'alleanza. E' necessario che tutti gli interlocutori nazionali si mettano insieme ed insieme portino avanti degli interventi. Perché molto si può fare nella programmazione, nella prevenzione, con la ricerca, con la diagnosi, con la cura, con la riabilitazione e con la comunicazione, fatemi aggiungere. Il manifesto italiano One Brain, One Health, che la SIN presenta oggi alla Camera, alla presenza di rappresentanti istituzionali, società scientifiche, associazioni di pazienti e familiari, è un documento, eccolo qua, che vuole essere plasticamente l'inizio di un percorso importante. E allora io vorrei iniziare subito, perché questa giornata sarà composita ed importante. Vorrei iniziare con il saluto, intanto, del Ministro della Salute, Orazio Schillacci, che è qui davanti a me, che tra pochissimo, Ministro, la ringrazio di essere presente, la chiamerò a podio. Volevo ringraziare per l'ospitalità in questa meravigliosa sala del refettorio l'Onorevole Stefano Benigni, della Commissione Affari Sociali della Camera dei Reputati, perché è lui, insieme con l'Onorevole Anarita Patriarca, segretario di Presidenza, ad aver voluto ed organizzato insieme con SIN questo importante evento. Prego, Onorevole. Intanto io ringrazio il Professor Padovani, Presidente di SIN, per averci dato la disponibilità ad organizzare questo evento, insieme alla Presidente dell'Intergruppo sulle neuroscienze e l'Alzheimer, la mia collega Anarita Patriarca, che credo che sia collegata da New York. Sì, sì, si collegherà tra pochissimi minuti. Sì, sì, mi scuso in anticipo se non potrò rimanere tutta la durata dell'evento, perché purtroppo oggi alla Camera è giorno di seduta e quindi dovremo fare diversi voti tra poco, quindi mi dovrò assentare, ma c'è lo staff nostro, mio e di Anarita, che ovviamente prenderà nota di tutte quelle che sono le proposte e le istanze che emergeranno da questo convegno, perché per noi la presentazione di questo manifesto One Brain, One Health è un passo importante che mette insieme scienza e politica. Ovviamente sappiamo perfettamente che le malattie del cervello rappresentano una sfida centrale in un Paese che è in continuo e in costante invecchiamento. Ci sono oltre un milione di persone affette da demenza, ci sono oltre tre milioni di persone che sono in qualche modo chiamate ad assistere queste persone, e quindi affare da caregiver, e nonostante l'Italia sia un Paese tra i più all'avanguardia da un punto di vista sanitario, in particolare sul tema delle demenze, con l'elaborazione del Piano Nazionale Demenza del 2014, purtroppo spesso ci rendiamo conto di non essere abbastanza capaci nel mettere a terra quelle che sono poi le proposte e le risorse che spesso riusciamo a trovare. Quindi oggi siamo qua anche per raccogliere le tante istanze, le tante proposte che emergeranno e fare in modo di renderle in qualche modo degli strumenti normativi che siano concreti e che possano dare delle risposte effettive a questi problemi. Noi, anche grazie all'Intergruppo, ma soprattutto alla disponibilità del Ministro Schillacci che è qui oggi, abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato, in questa prima fase della legislatura, ad esempio ad intervenire sul tema dell'Alzheimer con il rifinanziamento del fondo, che è aumentato di 20 milioni di euro rispetto alla legislatura precedente, quindi siamo riusciti a ottenere 35 milioni di euro fino al 2026 e questo è un primo risultato molto importante che vuole essere un segnale per dire a tutti i professionisti sanitari che questo Governo, questa maggioranza, questa Commissione, della quale io faccio parte, danno la disponibilità a intraprendere un percorso comune nel cercare di mettere appunto a terra le tante proposte che però poi devono concretizzarsi in soluzioni. Quindi questa è la grande sfida che noi vogliamo fare, chiaramente è un primo passo che deve portare tutta una serie di atti che coinvolgono anche il tema legato a questioni burocratiche perché sappiamo perfettamente quanto sia difficile da un punto di vista burocratico spesso riuscire a concretizzare delle proposte, quindi anche attraverso il tema della sburocratizzazione noi dovremo lavorare affinché si riesca a raggiungere dei risultati però quello che vogliamo dire oggi è che da parte nostra c'è la massima disponibilità la consapevolezza che abbiamo bisogno di rafforzare il nostro sistema sanitario a 360 gradi a maggior ragione dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia e c'è la volontà chiaramente di farlo perché abbiamo tutti un obiettivo comune quello di migliorare la qualità della vita delle nostre persone. In una società come la nostra, molto evoluta, chi dà attenzione alla salute credo che debba andarne orgoglioso e chiaramente noi che siamo chiamati a legiferare da questo punto di vista dobbiamo concentrarci il più possibile per dare attenzione appunto a tutti quei professionisti, alle associazioni di pazienti, ai clinici in generale per riuscire a fare sempre meglio. Noi, e chiudo perché poi è giusto lasciare spazio a tutti voi come Forza Italia a livello nazionale ma anche a livello regionale siamo impegnati, lo dico ovviamente da esponente di Forza Italia attraverso anche i nostri consiglieri regionali a fare in modo di rafforzare il sistema sanitario a livello regionale e territoriale perché sappiamo perfettamente che a livello nazionale possiamo dare delle indicazioni ma che poi in qualche modo devono essere portate avanti sui territori e il nostro impegno sta andando in questa direzione ovviamente la mia disponibilità, quella della collega patriarca, c'è come quella di fatto tutta la Commissione perché sono contento ed orgoglioso anche di poter dire che la Commissione Affari Sociali è una Commissione dove difficilmente si creano situazioni di contrasto all'interno della Commissione c'è la consapevolezza da parte di tutti che se ci si siede attorno ad un tavolo con buon senso e con la volontà di risolvere i problemi si può fare qualcosa di buono per i nostri cittadini e soprattutto per le persone che soffrono di malattie importanti come in questo caso ovviamente legate al cervello e in generale alle demenze grazie a tutti, buon lavoro e poi io se riesco torno, passo per fare un saluto grazie al Professor Padovani e al Ministro Schillaci, grazie a qui do, grazie a lei tra un attimo do la parola al Ministro attraverso la strategia italiana per la salute del cervello ce lo dirà ancora meglio il Presidente Professor Padovani della Società Italiana di Neurologia la SIN vuole dare al nostro Paese la possibilità di svolgere azioni concrete di adottare soluzioni concrete per valorizzare, promuovere e proteggere il cervello durante l'arco della vita di ogni essere umano e quando gli esseri umani stanno bene ne giova tutta la comunità ed il Paese è decisamente anche molto più produttivo ce ne siamo accorti con il Covid quanto la salute sia ritornata al centro e deve ritornare al centro di ogni agenda politica Ministro, la invito a podio per il suo intervento e grazie moltissimo di essere qui a podio Buon pomeriggio a tutti saluto l'amico Professor Padovani Presidente della Società Italiana di Neurologia l'onorevole patriarca che credo collegata con noi che è una delle promotrici dell'iniziativa l'onorevole Stefano Benigni il Presidente della World Federation of Neurology Wolfgang Grisold il Presidente della European Academy of Neurology Paul Boon tutti gli autorevoli relatrici, relatori, tutti i presenti vi ringrazio per l'invito a intervenire a questo appuntamento che si svolge nel corso della settimana mondiale del cervello e lo considero di particolare importanza sapete meglio di me che le malattie del cervello costituiscono la principale causa di disabilità la seconda causa di morte a livello globale disturbi neurologici come l'epilessia l'emicrania, le malattie neurodegenerative cerebrovascolari tra tutte l'ictus rappresentano patologie ad alto impatto sociale che condizionano in modo significativo la qualità della vita la sostenibilità dei sistemi sanitari in Italia sono oltre un milione le persone con malattie neurodegenerative 900 mila quelle con mild cognitive impairment cui fanno riferimento 4 milioni di familiari caregiver per un totale di 6 milioni di persone coinvolte con un costo anno stimato in 23 miliardi di euro fra costi diretti ed indiretti e il circa il più del 60% della spesa a carico dei pazienti e ancora ogni anno registriamo moltissimi nuovi casi di ictus e di malmorbo di Parkinson si tratta dunque di temi di grande rilevanza anche guardando in prospettiva dato che l'aumento delle patologie neurodegenerative e dei disturbi mentali è strettamente legato al progressivo invecchiamento della popolazione come sapete l'Italia è una nazione particolarmente longeva per questo assicuro la massima attenzione al manifesto e alle proposte che emergeranno da questa giornata la società italiana di neurologia e in più in generale tutte le società scientifiche svolgono un ruolo fondamentale per il progresso della nostra capacità di rispondere ai bisogni di salute e per questo è cruciale mantenere una stretta collaborazione anche con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti dei familiari e dei caregiver il vostro contributo è prezioso per supportare l'alleanza tra le specialità mediche e i professionisti coinvolti in un'ottica multidisciplinare obiettivo condiviso è che al centro anche del piano nazionale demenze il principale strumento di sanità pubblica di cui l'Italia si è dotata per promuovere interventi appropriati per una gestione integrata di queste patologie come questi temi siano in cima all'agenda di governo lo abbiamo dimostrato anche con l'ultima legge di bilancio come ricordava l'onorevole Benigni con il rifinanziamento del fondo per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026 sono stati previsti 35 milioni di stanziamento complessivo di euro ossia 20 milioni di euro in più rispetto a quanto era stato posto nel triennio precedente nel frattempo lo scorso 7 dicembre è stata pubblicata la prima linea guida pubblica sulla diagnosi del trattamento della demenza e del mild cognitive impairment con 167 raccomandazioni di pratica clinica e 38 di ricerca è stata inoltre aggiornata la mappa dei servizi dedicati alla diagnosi e alla presa in carico delle persone con demenza che servirà per definire al meglio la futura programmazione non mi stancherò poi mai di ripetere quanto sia strategico anche in questo ambito e ruolo della ricerca a tale riguardo ricordo il sostegno assicurato dalle attività portate avanti su queste materie da 18 IRCCS i bandi competitivi per la ricerca finalizzata con cui sono stati finanziati 150 progetti di ricerca nell'ambito delle neuroscienze e i progetti per la ricerca biomedica finanziata con i fondi del PNRR per oltre 50 milioni di euro altro perno della strategia nazionale naturalmente resta la prevenzione che abbiamo posto fra le priorità d'azione anche per il G7 di cui l'Italia quest'anno come sapete ha la presidenza nel nostra nazione il 40% delle demenze attribuibili a 11 fattori di rischio modificabili non a caso negli ultimi decenni si è osservata una riduzione della mortalità e dei ricoveri per malattie cerebrovascolari per questo siamo impegnati nel promuovere l'empowerment dei cittadini per contrastare fattori di rischio comportamentali nell'arco di tutta la vita e puntiamo a favorire l'identificazione precoce e l'adeguata gestione delle condizioni a rischio secondo un approccio condiviso anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale delle Cronicità il sostegno da approcci integrati di sanità pubblica e alla base anche degli interventi portati avanti con i fondi del PNRR e coinvolge appieno la neurologia per l'impellente necessità di migliorare la gestione di malattie croniche a elevata complessità superando una visione spesso ancora troppo centrata sull'ospedale la riforma dell'assistenza territoriale dovrà quindi servire a garantire una presa in carico forte di queste patologie peraltro con un investimento importante sulla digitalizzazione sul fascicolo sanitario elettronico, sulla telemedicina sull'assistenza domiciliare, sul telemonitoraggio dei pazienti in molte realtà italiane questi strumenti sono già efficienti ma con lo sforzo proiettato adesso su scala nazionale vogliamo raggiungere standard più elevati ed omogenei in ogni parte d'Italia la sfida che abbiamo di fronte è ambiziosa richiede il massimo impegno da parte di tutti per questo auspico un confronto ancora più proficuo vi ringrazio per il vostro contributo e vi auguro un buon pomeriggio di lavori che saranno sicuramente interessanti grazie 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 al Ministro della Salute per le parole che ha utilizzato ne conosciamo l'attenzione verso questi temi la Ministra Locatelli non è qui ma ci teneva e ci ha fatto arrivare Ministro per le disabilità una nota scritta che avrei piacere di leggervi ed è questa scrive a lei Presidente Padovani ma tutti noi in occasione dell'evento One Brain One Health la strategia italiana per la salute del cervello 2024-2031 desidero far giungere a lei e a tutti i partecipanti la mia vicinanza mi dispiace molto non poter essere con voi oggi ma impegni istituzionali precedentemente assunti non me lo consentono saluto con cordialità le autorità presenti gli illustri relatori la società italiana di neurologie professionisti sanitari tutti coloro che hanno reso possibile il momento di confronto che vi apprestate a condividere e questa è un'occasione preziosa di riflessione e di sensibilizzazione in particolare per pensare a tutte quelle azioni che insieme siamo chiamati a mettere in campo per la prevenzione la diagnosi, la cura ma anche la riabilitazione partecipazione di ogni persona alla vita delle nostre comunità ricordando sempre che la persona ha bisogno di cure ed assistenza ma anche di relazioni, affetti, socialità e che oggi serve investire nelle competenze e nei talenti di ciascuno vi sono quindi particolarmente grata per questa iniziativa e per il lavoro che ogni giorno portate avanti con dedizione e grande professionalità certa di aver presto nuove occasioni per incontrarci e confrontarci anche sulle riflessioni che emergeranno oggi vi saluto e vi auguro un buon lavoro io direi che possiamo fare un applauso anche alla ministra e deve andare onorevole 5 minuti 5 minuti, perfetto io mi preoccupo dei lavori che continuano tanto se poi riesce tornerà allora perfetto siamo arrivati al primo video messaggio iniziamo questo pomeriggio di lavori con il direttore del Dipartimento Mental Health and Substance Use dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Deborah Kestel ci ha mandato questo messaggio e lo ascoltiamo cari colleghi, buongiorno mentre mi dispiace non poter essere presente fisicamente con voi oggi è con profonda gratitudine che mi rivolgo a voi in questa importante conferenza dedicata alla strategia italiana per la salute del cervello siamo pienamente consapevoli del peso enorme che i disturbi neurologici rappresentano costituendo la principale causa di anni di vita vissuti con disabilità e di mortalità purtroppo le risorse globali destinate a questi disturbi sono spesso insufficienti creando un divario significativo in termini diagnostici e terapeutici inoltre non possiamo trascurare le numerose sfide che le persone con disturbi neurologici devono affrontare dalla nascita fino alla terza età nell'accesso ai servizi essenziali per la salute del cervello ancora più preoccupante è la persistente discriminazione e le violazioni dei diritti umani a livello mondiale solite da coloro che vivono con disturbi neurologici tuttavia nonostante queste sfide rimango ottimista all'Organizzazione Mondiale della Sanità stiamo lavorando instancabilmente per promuovere un cambiamento positivo elevando l'importanza attribuita ai disturbi neurologici a livello mondiale l'adozione del piano d'azione globale interseptoriale per l'epilessia e altri disturbi neurologici rappresenta un importante passo avanti in questa direzione inaugurando una nuova era per migliorare la qualità della vita di coloro che vivono con disturbi neurologici nel mondo nel prossimo decennio questo piano sarà fondamentale nel modellare il panorama della salute neurologica a livello mondiale l'OMS ha sviluppato numerose risorse per facilitare l'attuazione di questo piano tra cui un documento di posizione un position paper sull'ottimizzazione della salute del cervello lungo il corso della vita abbiamo anche i briefing, i documenti tecnici sull'epilessia e il morbo di Parkinson e un kit di strumenti, un toolkit di implementazione in sviluppo anche i nostri partner della società civile hanno offerto un contributo importante con risorse preziose tuttavia l'entità di questa sfida richiede un fronte unito non possiamo operare isolati proteggere e promuovere efficacemente la salute del cervello e fornire cure per i disturbi neurologici lungo tutto il corso della vita richiede un approccio globale che coinvolga ogni settore della società esprimo la mia gratitudine per il continuo sostegno dei nostri partner della società civile insieme vogliamo non solo migliorare il nostro impatto a livello nazionale ma più crucialmente a intensificare il coinvolgimento significativo delle persone affette da disturbi neurologici solo attraverso una risposta completa e collaborativa possiamo garantire che coloro che sono affetti da disturbi neurologici e quelli che si prendono cura di loro raggiungano il più alto livello possibile di salute con pari diritti, opportunità, rispetto e autonomia concludo congratulandomi con l'Italia per l'iniziativa di trapresa verso la sua strategia per la salute del cervello e anticipando con entusiasmo il proseguimento della nostra collaborazione vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona continuazione con questo evento ringraziamo il direttore di partimento Deborah Keistel e questo manifesto che io ho letto e riletto ci verrà spiegato per filo e per segno mi piace perché ha una larga parte di contesto più teorica che andremo a approfondire con il professor Padovani che qui manca una parte molto molto pratica di messa a terra, di azioni da intraprendere e poi questo confronto che richiama con le cosiddette 6P pazienti, professionisti sanitari, providers, partners, politici, popolazione generale quindi mi piace moltissimo proprio tutto il modello che è stato creato invito ad intervenire il presidente dell'European Academy of Neurology Paul Boone che è qui con noi il suo intervento sarà in lingua inglese ma è davvero un privilegio per noi poterla avere ospite prego on behalf of the European Academy of Neurology thank you for allowing me to give you or explain in a few words a little bit about the European context of the Società Italiana di Neurologia about brain health, the burden of neurological disease and more importantly the importance of national brain plants first of all the European Academy of Neurology first of all the European Academy of Neurology big society 47 European countries in the WHO European space we have contacts with lots of organizations the key thing however for today is that the and you may not be aware of that but the Italian Society of Neurology is one of the leading and most active members of the European Academy of Neurology many Italian colleagues are in key positions in European Neurology your contribution to European Neurology is extremely important that being said I switch to the burden of neurological disorders it has already been mentioned by many and by the end of the day you will know it by heart what are the key figures at least one in three people have a neurological disorder together with mental disorders it is about half of the population that has a burden for brain disorders at least one in three neurological at least one in four mental if you add that it is one in two people globally have a brain disorder it is massive the burden is really massive in terms of DALIS so the disability adjusted life the number of years lost in normal life it is the number one contributor to the burden of disease in terms of premature mortality it is number two globally the burden of neurological disorders is increasing and it is increasing not because neurologists are not doing the right job it is because of the aging of the population some neurological disorders in fact are lower in prevalence and in incidence than before but we are fighting against a larger group of older people that have brain disorders a couple of other key figures in many countries not in Italy by the way but in many countries there are not enough neurologists there is a shortage of work force in neurology in at least two thirds of the European countries so there is a major problem fortunately not so much in Italy and in terms of cost we just heard the minister and he was very eloquent in quoting the cost I can give you global numbers very simple to understand and to make our advocacy case you take all the costs of cancer all cancers you take all the costs of cardiovascular diseases you add these two costs and this is what the total cost of neurological disorders is so in terms of costs the cost and the burden is massive okay one more figure the burden is increasing if you look at the figures from 2024 to 2050 the burden is believed to increase so we are facing a major problem it has already been said by the representative of the World Health Organization the IGAP the Intersectorial Global Action Plan for Epilepsy and Neurological Disorders has two years ago proclaimed neurological disorders a global health imperative it's basically now a priority of World Health Organization this is obviously a paper step but it's an important step because this will allow local governments and local stakeholders to make sure that the populations will benefit from this formal declaration a few words on brain health what is brain health well there is no uniform definition of brain health we will hear Professor Griesholt also discuss brain health but basically it is the opportunity for a human being to have all the brain and cognitive faculties in order to deal with the daily problems of life this is really what brain health is the EAN has worked very hard recently to define a brain health strategy and by doing so helping individual member states to bring brain health to the national agenda I don't have time to elaborate on that we have a few we have some ideas about the determinants of brain health it is avoiding not to sleep well it is mental activity physical activity it is about consuming not too much alcohol eating healthy it is trying to decrease the number of patients with high blood pressure with hypercholesterolemia fine but that is not the challenge the challenge really is and I really want to stress that and it is not a criticism against our cardiology friends we should move in prevention of brain health or prevention of neurological disorders beyond what is good for the heart is good for the brain that we already know now we have to take the next step well what is the next step? the next step is indeed what the Italian Society of Neurology is planning it is implementing a brain health plan and a plan to reduce the burden of neurological disorders on the level of the Italian state for the Italian patients for the Italian citizens on behalf of EAN I really would like and this is where I would like to end with I would like to congratulate the Italian community my colleagues and friends in Italy with their major step starting today and this is going to be a journey as you mentioned to congratulate you with this effort you are among the very few countries in Europe who have achieved this step congratulations and thank you very much thank you President Boone beh un fortissimo endorsement questo a noi come paese e alla sua società il prossimo intervento è del Presidente della World Federation of Neurology il Professor Wolfgang Grisel thank you to be here thank you dear Chairman dear Professor Mantovani dear Professor Leonardo thank you for inviting me here and my name is Dr. Wolfgang Grisel I'm the President of the World Federation of Neurology and I want to thank you all for this important initiative I want to convey the best wishes from all our trustees and we are the World Federation is a strong pond with sin and Italy is the only country except Austria who has had two world congresses the last one unfortunately virtual but two congresses the World Federation is a charity that is based in the UK and has 124 member societies and our main goals are to foster education and global activities we have good cooperations with the WHO and also with the United Nations ECOSOC and we are trying to use this to make the voice of neurology heard worldwide we congratulate you that you take brain health up as a political agenda and if you imagine one thing is to raise awareness of brain health the second one is that societies like the EN, the American Academy and SIN take it up but the top of it to bring it into political agenda and in Europe, Italy, Switzerland, Norway also has had a system of brain fostering for years you are on top of that what is brain health and I think it's an overarching concept that reaches from the prenatal stage until old age until the death of persons it contains not only neurology it contains mental function it contains social aspects it contains environment and I think these are many markers other markers are very simple as Professor Boone mentioned the number of neurologists is important the second point is what drugs, what medications are available and we have a very good lecture from the WHO about the essential medicines list they teach us how medicines are used worldwide and the third point is the per capita income of the countries which simply often do not allow for brain health to be spent the World Federation has taken up the brain health initiative for the World Brain Days and we have now the third World Brain Day one on brain health, one on disability and now on prevention it has also been mentioned, I think it has to be mentioned all the time the IGAP, the Intersectoral Global Action Plan for Epilepsy is the best thing that could happen to neurology for a long time and WHO takes up the mission of neurology for the public, for carers and for persons with lived experience finally, the global burden of disease has shown and it has been cited at several points that neurologic diseases are the main cause of disability and we all wait with apprehension for the next version of the GBD that's going to come out in these days and it is expected that the number of conditions that are important for neurologic disability will increase so we have these numbers, they are of importance and I want to avoid the word burden of disease because no patient wants to be a burden we believe we need to influence and this is the purpose of this meeting and we have to work on prevention for neurologic disease which is a very important and a very powerful and maybe underestimated way forward with that I thank you and congratulate you again to this important initiative thank you thank you President Grisold e direi che a questo punto possiamo passare alla prima sessione che è quella proprio di introduzione alla strategia italiana per la salute del cervello 2024-2031 e proprio l'illustrazione del manifesto italiano One Brain One Health perché il concetto è che da una parte occorre ricomporre la diversità e diverse malattie del cervello, neurologica e mentale dall'altro sostanziare ancora di più il riconoscimento che la salute del cervello e delle persone è strettamente collegata a quella degli animali e dell'ecosistema legate indissolubilmente chiamo a raggiungerci qui con noi la professoressa Matilde Leonardi consigliere della Società Italiana di Neurologia così in tandem con il Professor Mantovani potremo dedicarci Padovani, io adesso ricomincio Padovani no, viene da ridere perché già è capitato un'altra volta con il Presidente Padovani possiamo andare proprio a guardare l'aspetto più teorico e l'aspetto più pratico Professor Padovani, lei l'inquadramento dell'iniziativa sul piano teorico e di contesto ai fini di un'alleanza che sia multidisciplinare e politico-istituzionale eh sì, certo, vanno via sì sì thank you very much indeed, Mr. President thank you, thank you partono, tornano Professor Padovani, allora a lei dicevo la parola per, diciamo così, la contestualizzazione nella parte più teorica e questa necessità di un'alleanza io ho nominato le varie P quindi la parte multidisciplinare e poi naturalmente il legame politico-istituzionale Professore grazie, buongiorno a tutti permettetemi di ringraziare in principalità il Ministro della Salute non era ovvio che venisse ma lo ringrazio così come l'On. Narita Patriarca con la quale abbiamo percorso quest'anno un percorso che ci permette di portare non solo la neurologia ma diciamo tutto quello che ha a che fare con il mondo che è legato alle malattie del cervello ehm devo anche ringraziare tutti i relatori che sono qui presenti e che hanno accettato l'invito anche su questo devo dire non era scontato che dessero la loro adesione e disponibilità ovviamente ringrazio anche tutti quelli che sono qui presenti permettetemi di prima di parlare del manifesto o delle premesse al manifesto di ringraziare Federica Staccone e Cattaneo Zanetto il lavoro che hanno fatto è stato incommiabile così come quello di Barbara Frati e Luisa Bardellino di Sina Congress certamente anche Gas Communication Moonlight e questa è una parte devo ringraziare tutti quelli che lavorano con me in SIN il past president il professor Berardelli il president elected che è il professor Zappia e tutto l'ufficio di presidenza del SIN ma anche i consiglieri di questo altrimenti senza di loro non avremmo mai fatto questa iniziativa oggi qui non solo celebriamo la settimana mondiale del cervello ma confidiamo di iniziare un percorso oggi inizia questo percorso che mira insieme alle istituzioni governative alle società scientifiche le molte società scientifiche alle associazioni dei malati e dei loro familiari agli enti pubblici e privati incluse le aziende farmaceutiche oggi qui coinvolte con Farmindustria le aziende che lavorano nell'ambito delle tecnologie a promuovere in senso molto ampio quello che noi riteniamo essere la salute del cervello identificando politiche e azioni efficaci per ridurre come già stato detto il peso delle principali malattie non trasmissibili ma noi sappiamo che anche quelle trasmissibili hanno un peso sulla salute mentale e sulla salute dei pazienti neurologici il covid ha insegnato molto oggi noi dobbiamo portare la vita dei cittadini e il miglioramento della loro vita al centro della nostra attività nel rispetto di quanto previsto con l'iniziativa europea healthier together essere più sani tutti insieme il nostro paese anche in ragione della crescente longevità affronta una sfida senza precedenti nei confronti del suo capitale più prezioso che è il cervello minacciato da una crescente prevalenza di malattie mentali e neurologiche che in Italia oggi rappresentano come è stato già detto la seconda causa di mortalità e la principale causa di disabilità oltre al peso sociale in tutte le età fin dalla nascita fino all'ultimo giorno di vita malattie spesso quelle mentali e neurologiche coesistenti e spesso sottovalutate che si esprimono a tutte le età e che ad ogni età riconoscono fattori di rischio bisogni di cura che poi sono necessarie per tutto l'arco di una vita malattie che ancora oggi nonostante i progressi delle neuroscienze e delle tecnologie sono in molti casi alla ricerca di terapie definitive e di trattamenti efficaci in questo contesto tutti noi abbiamo il dovere di unire le forze e di promuovere così come questo piano strategico vorrebbe un'alleanza che consenta di individuare le priorità realizzare un piano condiviso coerente con quanto promosso dalla World Health Organization dalla World Federation of Neurology dalla European Academy of Neurology dall'International Brain Research Organization e dalla European Brain Council per questa ragione sono onorato di avere avuto qui tra tutti anche i referenti dell'Organizzazione Mondiale della Salute la World Federation e la European Academy a testimoniare la strategia italiana attraverso un manifesto che fa proprio alla definizione di salute che ho in qualche modo cambiato rispetto a quello che generalmente viene tradotto cioè quella condizione che consente ad una persona di realizzare le proprie capacità cognitive sociali e motorie ottimizzando le proprie risorse emotive comportamentali e psicologiche per affrontare e risolvere le situazioni della vita e che noi abbiamo sintetizzato nello slogan One Brain One Health Ora One Brain perché riteniamo abbiamo ritenuto io e Matilde Leonardi che ancora ringrazio per la sua forza e il suo stimolo One Brain perché riteniamo che tutti i cervelli e tutte le malattie del cervello siano essi psichiatrici o neurologici o neurochirurgiche siano essi ereditarie o secondarie ad altre condizioni siano essi croniche o acute siano o meno correlate a condizioni relazionali o psicologiche hanno lo stesso diritto di protezione e di cura durante tutto l'arco della vita One Health perché il termine è molto simile al Global Health perché siamo convinti che la salute del cervello è strettamente connessa alla salute nella sua accezione più ampia e globale che include persone comunità animali ambiente oggi sono stati pubblicati diversi lavori sull'effetto che l'inquinamento avrebbe sulla mortalità in genere ma è certo che l'inquinamento atmosferico così come l'utilizzo di alcune sostanze anche negli allevamenti debbano essere oggi un motivo di preoccupazione se vogliamo realmente gestire e curare la salute del cervello e quindi crediamo che One Health nel nostro Paese significa garantire alcuni principi guida tra quelli un'assistenza sanitaria di base incentrata sulle persone sui loro bisogni in particolar modo se fragili e sono felice che qui la società italiana di geriatria abbia colto il nostro invito un approccio di cura integrato e multidisciplinare lungo tutto il corso della vita in particolar modo nell'età infantile e ringrazio ovviamente Simpia per essere qua oltre che nell'età avanzate politiche sostenibili e pratiche basate su dati concreti e trasparenti secondo i principi dell'open science è già stato fatto riferimento alla rete nazionale delle neuroscienze qui rappresentata dal professor Lodi che poi parlerà gli RCCS sono una risorsa di questo Paese e come ha detto il Ministro empowerment e coinvolgimento delle persone malate e dei loro caregiver e infine lo ha ripetuto la referente dell'organizzazione mondiale della salute garantire parità di genere equità e rispetto dei diritti non entrerò nel merito del manifesto perché non voglio rubare lo spazio a Matilde vi ringrazio per l'attenzione è un piacere aver lavorato qui è stata ovviamente impegnativo ma il successo devo dire lo vedo qui ringrazio ovviamente tutti quelli convenuti ma soprattutto quelli in rappresentanza della salute mentale la società italiana di psichiatriaco ancora non ho citato il professor Siracusano amico avendo fatto io la specialità qui a Roma tanto tempo fa e che ritrovo frequentemente in diverse occasioni e ovviamente tutti voi per essere qui grazie per l'attenzione professore Padovani grazie moltissimo perché se siamo tutti qui gran parte del merito è suo per lo meno ve lo condividete con la professoressa Leonardi a cui vorrei dare la parola è consigliera l'ho detto della società italiana di neurologia e arriviamo quindi alla parte professoressa più pratica grazie mille la genesi di un qualche cosa che dovrà durare dal 2024 al 2031 e lasciatemi dire che allora è in qualche modo basata su una antropologia che abbiamo messo alla base del nostro lavoro l'antropologia che potrei definire l'antropologia del veramente e delle pure essendo una genesi fatemi partire dalla genesi Giacobbe stava camminando per tornare a casa quando deve attraversare il fiume Yabok che è un affluente del Giordano mentre sta attraversando il fiume viene attaccato da un angelo e con questo angelo Giacobbe lotta tutta la notte in un corpo a corpo feroce alla fine di questo combattimento Giacobbe vince l'angelo l'angelo viene così sconfitto ma prima di essere definitivamente sconfitto l'angelo ferisce Giacobbe e gli taglia il nervo sciatico lasciando Giacobbe zoppo per tutta la sua vita questa esegesi diciamo così della condizione umana fa sì che l'uomo sia stato in grado vulnerabile perché ferito per sempre eppure è stato in grado di vincere l'angelo e quindi questo uomo vulnerabile ha però questa forza incredibile di vincere l'angelo mi è piaciuto partire con questo punto della Genesi perché rappresenta come siamo noi uomini vulnerabili con un cervello in grado di vincere un angelo perché così il nostro cervello può arrivare in zone che non conosciamo produrre composizioni che non sappiamo neanche immaginare ma allo stesso tempo essere così vulnerabile che ci rende fragili ed è insita nella nostra esistenza nella nostra condizione umana quella fragilità che in qualche modo noi che studiamo il cervello che ci occupiamo di cervello che viviamo nel nostro cervello alla malattia conosciamo profondamente nella nostra carne e nella nostra intelligenza come parte dell'esistenza umana e questa antropologia quindi del veramente fragile eppure così capace di vincere di andare oltre la propria fragilità è ciò che è alla base del nostro tentativo di portare in Italia la salute del cervello consapevoli della fragilità della condizione umana eppure volonterosi con un nostro piccolo manifesto uno sforzo collettivo di andare oltre questa fragilità in cui in qualche modo noi usiamo le nostre armi qual è l'arma per la vulnerabilità per noi che ci occupiamo di scienza di ricerca il nostro tentativo di vincere la vulnerabilità è sicuramente fare ricerca e questo è quello che l'OMS ci dice occuparsi di cervello vuol dire sapersi occupare della vulnerabilità umana all'interno di quelle che possono essere azioni che hanno un programma un progetto dal 2024 al 2031 abbiamo deciso di fare in Italia perché l'OMS è iniziato due anni fa noi arriviamo quarti dopo la Finlandia la Norvegia e la Svizzera l'Italia però ha un compito differente noi siamo uno dei pochi paesi che ha un sistema sanitario nazionale abbiamo organizzazioni che rappresentano ogni genere di paziente abbiamo la capacità grazie a quello che ha voluto fare la SIN di mettere insieme tutte le forze che due anni fa l'OMS nel suo documento aveva sperato fossero messe insieme un intersectorial cos'è un piano globale intersectoriale quello che mette insieme tutti i settori tant'è che ad esempio in Finlandia la campagna Brenelte è svolta dal ministero dell'educazione che ha deciso di fare una campagna coinvolgendo i bambini dai 6 anni ai 18 anni che devono per questo anno scolastico definire che cos'è brain health in queste sette anni di lavoro il nostro approccio one brain one health che cos'è se non il tentativo di definire che la malattia non rappresenta la persona ma la persona è all'interno di un contesto che può essere facilitatore o barriera e questo contesto è quello su cui noi possiamo lavorare con le azioni esemplificate anche nel cervello che state vedendo e che trovate nella vostra cartellina un cervello in grado di essere al centro di azioni ma allo stesso tempo in interazione con tutto che c'è quello che c'è attorno a noi sono sette anni di lavoro in cui noi cercheremo insieme di raggiungere i cinque grandi obiettivi che l'OMS ogni due anni farà e vorrà verificare gli obiettivi che abbiamo espresso nel manifesto il primo punto è la governance l'OMS chiederà ai Paesi membri che aderiscono al Global Action Plan di riportare quali sono le azioni che vengono fatte da ogni Paese noi siamo come Italia già in grado di dire che siamo riusciti a riunire gli stakeholder rilevanti di questo Paese e molti altri ne verranno perché ci sono molte altre associazioni che noi vogliamo con noi come diceva la favola africana del colibri quando il leone vide passare un piccolo colibri una goccia d'acqua il colibri andava a spegnere il fuoco controcorrente di tutti gli animali che scappavano il leone ridendo disse al colibri ma che cosa fai tu con quella goccia dove stai andando e lui dice io faccio la mia parte e con questo ci ha chiesto di fare la nostra parte di essere ognuno un piccolo colibri che va contro la corrente di coloro che scappano e va verso il fuoco con la sua goccia d'acqua e credo che noi qui in questi sette anni dobbiamo riuscire a rispondere all'obiettivo numero uno l'obiettivo della governance stare insieme vabbè ci saremo simpatici antipatici mental health neurological health alla fine abbiamo degli obiettivi comuni il bene comune non se ne parla più tanto credo che sia importante quello che facciamo noi oggi qua il bene comune il bene comune che si attua anche attuando il secondo punto che è quello di migliorare la diagnosi e la cura è stato detto e lo troverete nell'ambito del manifesto non vado nel dettaglio di tutti i dieci punti che vi chiederemo di firmare a ognuno di voi alla fine della vostra relazione il terzo punto prevenzione e promozione un grande challenge noi neurologi e parlo come neurologa qui non siamo abituati a parlare di prevenzione e promozione perché noi siamo concentrati a un insegnamento a un'educazione che va prevalentemente verso la diagnosi e il trattamento ma in realtà chiederemo ai nostri giovani soprattutto noi come SIN ma tutti voi abbiamo delle società scientifiche piene di giovani a cui dobbiamo dare l'entusiasmo di far parte di una collettività che si occupa della promozione della salute e che va al quarto punto del nostro manifesto che è quello che l'OMS ci dice di fare implementare la ricerca senza ricerca noi non riusciremo ad andare avanti la ricerca è fondamentale in questo paese ed è il punto 8 e 9 del nostro manifesto che vi chiediamo di sottoscrivere perché noi crediamo profondamente che la ricerca sia fondamentale nell'ambito della strategia del cervello non solo la ricerca di base che non è stata nominata oggi la Monica di Luca dove è la ricerca di base fondamentale che si unisca alla ricerca clinica traslazionale quella che noi facciamo negli IRCS perché è fondamentale che noi uniti arriviamo a degli obiettivi siamo con malattie difficili complesse la Italian Brain Health Strategy nel suo quinto punto del manifesto che è quella che richiede l'OMS di prendere alcune patologie come case study ognuno di voi si occupa di patologie differenti ciò che si chiede a voi alle vostre società di identificare ad esempio dei case study delle patologie sulle quali voi volete davvero lavorare abbiamo qui rappresentanti delle patologie difficili di cui ci occupiamo c'è la rappresentante di Uniamo noi in neurologia abbiamo più di 400 malattie rare che costituiscono di fatto il più grande gruppo di malattie rare sulle quali bisogna intervenire non singolarmente ma collettivamente insieme allora credo e lo dico con grandissimo orgoglio ho lavorato sul Global Action Plan anche da giovane neurologa all'interno dell'OMS per arrivare a scriverlo col piano ed è il mio sogno come potete immaginare parlo una nota personale essere in Italia oggi e poter lanciare questa strategia perché quando scrivemo il piano con l'OMS il mio sogno era di portarla qua e ci siamo riusciti grazie a una società di neurologia che ha creduto in questo e grazie a tutte le società che sono rappresentate qua perché io credo che questo Italian Brain Health Strategy sia un progetto veramente ambizioso eppure insieme ce la potremo fare grazie grazie professoressa Leonardi allora con la prima firma del professor Padovani sul manifesto la firma è ovviamente simbolica la società italiana di neurologia si impegna a portare avanti questo manifesto e chiederemo le firme naturalmente simboliche a tutti tutti voi per arrivare ovviamente a concluderlo in maniera vincente questo manifesto entro il duemila e trentuno allora grazie professore che si accomoda possiamo dare il via alla prima sessione di lavori il cui titolo è prevenzione diagnosi ricerca cura delle patologie del cervello abbiamo detto fare tutto con uno sguardo di insieme allora modererà questo panel la professoressa leonardi ed una alla volta io chiamerò i vari interlocutori so che il dottor Siracusano ha dei tempi abbastanza stretti inizierei con il dottor Nicoletti e poi vi darò subito la linea va bene? la linea? io sono abituata in tv d'altra parte accoglie la linea pochi minuti e gliela do va bene? ok allora il segretario generale del ministero della salute il dottor Giovanni Nicoletti grazie di essere qui buongiorno grazie devo precisare che io non sono il segretario generale anche perché da qualche settimana il segretario generale non c'è più il ministero della salute sono il diciamo il principale collaboratore di uno dei capi dipartimento e quindi saluto a nome del dottor Giovanni Leonardo che non è il cugino di Matilde è solo un'omonimia ma sono bravissimi tutte e due quindi è un'ottima cosa che ci sia questo tipo di relazioni allora io cerco di essere molto breve perché ci sono tantissime importanti relazioni dopo la mia il ministro ha già descritto in maniera sintetica ma direi assolutamente esaustiva le attività di cui ci occupiamo e mi sembra non voglio sono un po' partigiano su questo ovviamente mi sembra che tutti dovrebbero capito che ci siamo non è uno dei temi delle tante cose che facciamo ma è uno di quelle che a livello di tutte le varie unità molto diverse il ministero impegna i colleghi quotidianamente su fronti anche direi decisivi rispetto al tema di cui parliamo oggi per cui io cerco diciamo molto rapidamente a questo punto di essere mi permettonete cerco di uscire un po' la mia figura istituzionale per parlare diciamo di quello che ho provato io leggendo questo documento allora io sono un po' emozionato perché leggendo questo documento ho ritrovato tutta una serie di parole adesso non le ripeto tutte perché sono tante un'inter settorialità One Health collaborazione insomma perché sono temi sono parole che noi usiamo da tanti anni come ministero soprattutto chi si occupa di prevenzione ma non soltanto dice beh allora dov'è nel senso se voi lo dite già da tanti anni di rileggerlo un'altra volta perché la grande novità diciamo è che lo troviamo in un documento in cui ci sono delle collaborazioni ed è stato redatto da persone come Alessandro come Matilde ma anche da tanti altri che hanno un background originariamente clinico quindi si occupano di malati si occupano di assistenza al letto del paziente quindi a differenza di noi diciamo hanno anche la concretezza di cosa vuol dire questo tipo di patologie non solo diciamo l'idea delle grandi strategie quindi il fatto che siamo arrivati a cominciare a avere un background comune per vedere questo tipo di cose secondo me è qualche cosa di straordinario e ovviamente se riusciremo a continuare a camminare insieme in questo percorso io penso che i risultati si vedranno anche l'altra cosa che mi ha pressionato è questo approccio internazionale questo qua sono un po' in conflitto di interesse perché sono le cose di cui io mi occupo un po' più personalmente e diciamo ma questo non è un caso che si parla di OMS mi ha fatto moltissimo piacere di vedere citato questo documento della commissione europea a cui con tanti colleghi italiani anche abbiamo lavorato e che a volte si è sempre il timore che resti un po' nei cassetti invece vedo che per fortuna è arrivato dove doveva arrivare e sta anche producendo frutti perché è fondamentale questo approccio internazionale perché prima di tutto possiamo contare non solo sul sapere nostro di italiani di validi accademici di ricercatori di professionisti anche se abbiamo visto quanti riconoscimenti meritatissimi sono venuti già in questa giornata però possiamo contare su un'expertise dell'esperienza che va al di là del nostro per quanto valido ambiente e questo è importante perché in un mondo che evolve continuamente sempre di più e soprattutto in una materia come quella di cui stiamo parlando oggi è fondamentale confrontarsi anche con scenari sociali culturali e organizzativi diversi perché da questo poi si riesce a entrare in quella complessità che è stata più volte menzionata che adesso non voglio neanche ripetere ciò detto fatemi dire due cose su un'altra questione a me diciamo avevo studiato medicina qualche annetto fa quindi sicuramente mi è stato insegnato che nel campo della medicina non ci sono cose inutili cose non interessanti sono tutte molto belle molto importanti però però diciamo oggi come oggi ci rendiamo conto che forse ci sono alcune cose che non sono i più importanti di altri però che hanno un impatto più grande hanno un impatto che va al di là degli operatori sanitari del nostro mondo e va a incidere sulla carne viva dell'intera popolazione adesso parlo anche come diciamo ex caregiver ho avuto eh la fortuna sfortuna di avere tutti e due genitori con un serio problema di demenza ovviamente la fortuna perché vuol dire che li ho avuti abbastanza lungo per vedere questa cosa sfortuna perché per fortuna in tempi non non sincroni e ho potuto sperimentare oltre tutte le cose che non vi dico perché le sapete benissimo anche l'impatto che ci hanno queste patologie non solo sull'organizzazione sull'aspetto economico su tante cose ma proprio sul modo stesso di concepire la vita e le relazioni che si cambia no? e che ci pone poi a noi dei dubbi su quello che stessi noi siamo che ci crediamo normali tra virgolette no? questo avendo avuto la fortuna di avere diciamo i miei parenti in una situazione sanitaria di eccellenza in cui hanno avuto la migliore diagnosi possibile anche sostegno terapeutico per quanto possibile un'assistenza continua io anche qua per fortuna ho parenti un po' in tutta Italia purtroppo non è così dappertutto e questo è molto triste non solo per diciamo la mancata assistenza e quant'altro ma perché vedo che in tante realtà dell'Italia non c'è ancora nemmeno la consapevolezza che questo tipo di persone qualcuno se ne debba fare carico anche solo per dirgli che cosa hanno non solo per dare delle risposte concrete questo secondo me la dice lunga sulla sfida che abbiamo no? ed è giusto partire da molto lontano forse sembra un po' troppo lontano e evidenziare che questa sfida non può riguardare solo il personale sanitario ovviamente noi dobbiamo fare la parte nostra questo è fuori discussione però questa sfida così come ha un impatto più grande che non sulla sulla sanità deve essere raccolta a un livello più globale io penso che documenti come quello che vediamo oggi siano il giusto punto di partenza per riuscire a coinvolgere in una riflessione complessiva tante realtà che possono fare qualche cosa e possono fare anche tanto a volte e magari ancora non lo sanno non lo sanno perché fanno altri lavori fanno altri tipi di responsabilità e magari non riescono neanche a cogliere la correlazione positiva negativa che sia tra quello che fanno e quello che ci sarebbe scusate se ho forse un po' divagato troppo ma io spero che questo lavoro cominci oggi e che siamo sia lungo non nel senso di andare per le lunghe ma che abbia la costanza che richiede per arrivare dove vogliamo arrivare grazie ancora per l'invito per questo lavoro che avete fatto grazie 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 mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti qui appena viene al tavolo dopo il suo vuole firmare subito subito venga venga mi piace questa venga professore vuol dire che ci crede molto professore a lei adesso vogliamo ascoltarla allora molto rapidamente andando un po' per punti intanto grazie al professor Padovani è un legame profondo da tanto tempo come ha detto lui ci si rincontra e questo quando c'è un senso di amicizia di stima e di affetto è una delle cose buone della vita anche perché essendo in campo neurologico il fatto che uno ci si riconosce è già un buon dato giusto diciamo così è un aspetto significativo il il punto io sono uno psichiatra e coordino il tavolo della salute mentale che ha fortemente voluto il ministro Schillaci è un tavolo che è cominciato da poco per cui si deve ancora articolare bene con tutte le componenti del ministero però ha già prodotto diverse cose prima di tutto ha creato dei gruppi di lavoro questi gruppi di lavoro sono stati dedicati a diversi aspetti uno di questi sono le determinanti psicosociali che sono alla base si vede di questo manifesto e un altro è uno stretto rapporto con la simpia sull'età evolutiva e ancora abbiamo fatto un tavolo col ministero di grazia e giustizia su quelle che sono gli autori di reato che nel nostro campo è un grande problema abbiamo fatto oltre eh eh 40 audizioni di diverse società e di diverse organizzazioni del terzo settore e qui è il mia colpa perché la società italiana di neurologia ancora non abbiamo avuto l'occasione di audirla io mi faccio eh però testimone perché martedì abbiamo una riunione al tavolo e eh io porterò il manifesto per vedere come lo possiamo integrare nei lavori in maniera tale che questo è uno scoop professore cioè nel senso che è un obiettivo già raggiunto è un colibri un colibri è un colibri ognuno fa la sua parte e ecco applausi ora eh quello che vorrei dire sia per non levare tempo alla eh alla discussione eh one brain one health eh lo slogan della eh dell'organizzazione mondiale della sanità è no health without mental health io credo che eh il nostro sforzo visto anche le persone qui presenti gli amici storici eh calabresi professor calabresi professor berardelli e gli altri che vedo in sala ci da un'opportunità unica l'opportunità unica è quella di ragionare in termini di one mental health unire assieme quello che sono degli aspetti più del brain ma anche tutti quelli che sono del mental in un discorso forte che noi possiamo fare anche perché l'età evolutiva è uno dei momenti in cui si declina e si combinano questi fattori. basta pensare agli effetti che possono avere gli effetti che possono avere le dipendenze non solo quelle diciamo da sostanze ma anche quelle comportamentali tecnologici oggi sul cervello e contemporaneamente riflesso che hanno sulle caratteristiche dei disturbi mentali. noi non ci occupiamo di disturbi ma di persone la persona è al centro e deve essere al centro della nostra attenzione il termine persona non è una scelta casuale perché un termine neutro non distingue nessun tipo di genere di appartenenza e questo è la l'idea della one health una salute unica per la persona e su questo io credo la disponibilità della società italiana di psichiatria c'è la professoressa dell'osso qui presente che è l'incoming e del tavolo tecnico da questo punto di vista è totale. noi abbiamo fatto anche noi dei piccoli manifesti uno è quello che hanno fatto tutti i comuni d'italia adesso fra poco sulla salute mentale però credo che a questo punto noi dobbiamo ogni volta dialogare e cercare di integrare e cercare di integrare nei diversi aspetti nelle diverse competenze quelle che possono essere delle joint venture dirette alla persona ultima cosa non so se sia un altro scoop ma comunque il ministero il ministro schillaci abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando la possibilità che tutti questi lavori dei tavoli e di queste si combini alla fine in un piano nazionale della salute un pans nuovo l'ultimo del 2013 se si riesce in questa operazione anche facendo l'assieme veramente sarà un risultato di grandissimo livello ultimissimo è uno degli altri investimenti è una rivoluzione che vogliamo fare sulla cultura della comunicazione sulla salute mentale che significa anche sulla salute del cervello proprio pensando alla questione della persona anche questo è un grande lavoro speriamo di realizzarlo e soprattutto non solo perché c'è il professor Padovani ma lo dobbiamo fare assieme se nel 1976 la clinica della materia nervosa e mentali si divise da una parte la psichiatria dall'altra parte la neurologia e credo che quella divisione quella separazione come tutte le separazioni fu di grande creatività e fertilità oggi queste due competenze ed eccellenze dell'italia devono dialogare e portare i risultati assieme grazie e grazie di essere stati invitati grazie grazie moltissimo professore per questo intervento ricco di scoop e chiamerei la senatrice Elena Murelli che è qui da un po' capogruppo in commissione affari sociali del senato per il suo intervento che anticipiamo poco poco per lasciare andare ai lavori grazie buon pomeriggio a tutte e a tutti e scusate se vi ho scombusolato l'agenda sarei nella tavola rotonda delle 6 non c'è nessun problema tra 20 minuti si vuota quindi scappo però ci tenevo ad essere qui ringrazio il presidente Padovani e la dottoressa Leonardo per l'invito per l'organizzazione di questo evento tutta la SIN e soprattutto anche tutte le società scientifiche presenti, le associazioni dei pazienti perché quello che avete presentato oggi è assolutamente rivoluzionario e devo ammirarvi per quello che avete fatto perché naturalmente portare tutte queste tematiche, tutte queste discipline insieme in un documento che ha poi uno scopo degli obiettivi specifici è assolutamente importante anche perché si parla tanto di One Health ma non si considera anche la parte mentale anzi come dimostrava la slide che è stata mostrata in precedenza il cervello è il motore di tutto il nostro corpo sicuramente il diesel, la benzina del nostro corpo è sicuramente l'alimentazione, l'attività fisica, la salute fisica però dipende anche dalla salute mentale. Faccio un piccolo esempio, nel momento in cui vi mettete a dieta se non c'è il collegamento con la testa, col cervello, non c'è la famosa forza di volontà non riuscirete mai a perdere peso. Questo è un piccolo esempio tanto per dire quanto fa effetto la convinzione la stessa cosa la convinzione, la salute mentale è importante anche per i malati nel momento in cui una persona ha sicuramente una patologia come può essere un tumore sicuramente viene anche il cervello aiuta ad affrontare le varie cure, ad affrontare le varie situazioni oppure pensiamo anche ai disturbi alimentari noi stiamo affrontando questa tematica in commissione quanto il cervello influisce sui casi di anoressia, bulimia, obesità e quindi questo sicuramente è importante dall'altro punto di vista una tematica che è stata toccata è l'invecchiamento della popolazione e tutti quindi problemi collegati come il problema dell'Alzheimer e tanti altri e quindi è una tematica forte e quindi partendo sicuramente dalla salute mentale è quella che ci può guidare nella, tra virgolette, prevenzione nella vita sana e longeva dei nostri cittadini dall'altro punto di vista abbiamo anche altri due aspetti che il Covid ci ha imparato a considerare una terminologia un po' particolare che è il burn out il termine che abbiamo sentito parlare soprattutto nel personale sanitario che ha difficoltà, ha bisogno di essere naturalmente assistito nella sua quotidianità i medici sicuramente ma questo termine burn out è inserito anche nelle terminologie del mercato del lavoro e quindi soprattutto nei lavori dei turnisti dove sono stressati e non riescono direttamente più ad affrontare diciamo la quotidianità lavorativa è un termine sicuramente che abbiamo sentito parlare anche delle donne in gravidanza o le perpere che hanno appena, oltre alle perpere anche le donne che hanno appena partorito che devono essere supportate psicologicamente nel loro percorso di gravidanza o di appunto essere madre e poi abbiamo sentito anche l'esigenza soprattutto dei giovani che dopo il Covid sono stati rinchiusi in casa sono stati costretti a non avere vita sociale e questa è una tematica molto forte nella nostra società rileviamo anche con il ministro dell'istruzione della scuola naturalmente questa esigenza che i giovani devono essere supportati anche dal punto di vista della salute mentale ed è per quello che abbiamo reinserito il supporto dello psicologo in alcuni istituti proprio per aiutare i giovani ad affrontare le difficoltà della vita soprattutto anche ad affrontare la socializzazione purtroppo non sono più capaci di affrontare la vita senza naturalmente gli strumenti tecnologici e confrontarsi con gli altri ecco perché è stata inserita anche la famosa educazione sentimentale per poter anche avere le relazioni con l'altro, l'altro amico, l'altro sesso eccetera eccetera e queste sono sicuramente tematiche molto importanti che voi andrete ad attoccare e quindi io sono molto contenta che sia stato presentato questo manifesto e ci aspettiamo molto lungo questi sette anni vi seguiremo e saremo di supporto come anche il Parlamento nel mio impegno come Commissione Sanità per poter andare a capire come e supportare come il vostro lavoro possa essere supportato nella parte legislativa dal Parlamento direttamente grazie e buon lavoro a tutti grazie ringraziamo la senatrice anche l'impegno della Commissione Sanità di assisterci in questo percorso che andremo costruendo insieme nei prossimi anni benissimo, allora procediamo con la Presidente della Società Italiana di Neuroscienze la SINS Monica Di Luca mi piace questo spirito ecco qui, qui è il suo posto, venga pure la penna grazie con slancio e con molto entusiasmo eccoci bene, ha visto il Professore? all'inizio pensavamo, no? che non avrei mai firmato no, no, non questo, non pensavamo questo ma magari puoi vedere proprio nero su bianco invece si lanciano tutti a firmare, molto bene grazie mille grazie alla Società Italiana di Neurologia grazie ancora al Presidente Padovani a Matilde, a tutti voi io penso che sia veramente fondamentale dedicare del tempo di qualità e un'attenzione al tema della salute del cervello e anche mantenere un dialogo estremamente attivo tra tutti gli attori e tra tutti i settori che impattano sulla salute del cervello sinceramente penso che non si possa parlare di salute come concetto generale prescindendo dalla salute del cervello e la salute del cervello permettetemelo non può prescindere dalla ricerca fondamentale sul cervello ovviamente io sono qui come Presidente della Società Italiana di Neuroscienze che sposa in pieno il manifesto di oggi e sono ovviamente il portavoce della ricerca fondamentale in neuroscienze la ricerca di neuroscienze in questa comunità ne abbiamo parlato più volte è di forte tradizione nel nostro Paese caratterizzata come una ricerca di frontiera ed è un campo della ricerca che è in continua evoluzione tuttavia come ricercatori di base siamo sempre stati perfettamente consapevoli della complessità del sistema che stavamo studiando e del fatto che questa complessità di fatto abbia frenato sia una conoscenza complessiva degli aspetti fisiologici del sistema nervoso ma anche ai mail, la diagnosi e la cura come voi mi insegnate di tutte le patologie del sistema nervoso sia neurologiche che psichiatriche i numeri li conosciamo già li ha dati Paul Bloom un cittadino in Europa su tre ha un disturbo neurologico uno su quattro un disturbo psichiatrico permettetemi di dire che questi numeri sono ancora più incredibili perché l'innovazione in questo campo è frenata e la maggior parte delle patologie cerebrali come voi mi insegnate a tutt'oggi non hanno ancora una cura definitiva ci stiamo lavorando tutti insieme la conseguenza è un costo sociale enormemente gravoso Paul Bloom ha già fatto questo esempio dei costi tra cardiovascolare e cancer come past president di European Brain Council se permettetemi di ricordarvi i numeri perché questi numeri sono impressionanti 800 miliardi l'anno calcolati dieci anni fa se calcoliamo il tasso inflattivo sono più di mille miliardi all'anno a tutt'oggi ogni anno in Europa come costo questo diventa un problema insostenibile per l'individuo per la società io dico sempre che è una bomba dolorogeria e quindi questi sono i numeri che devono cambiare questo è il problema e questa sarà la sfida dei prossimi dieci anni e io ritengo fortemente che sia una sfida che dobbiamo accogliere insieme tra ricerca clinica tra voi e noi ricerca fondamentale però per cogliere questa sfida abbiamo bisogno di tempo abbiamo bisogno di dedizione abbiamo bisogno di supporto da parte dei decisori abbiamo una necessità di avere un supporto per la ricerca fondamentale che sia di tipo olistico noi non sappiamo ne possiamo prevedere da che angolo verranno le scoperte che saranno rivoluzionarie e dobbiamo permetterci di poter considerare anche la ricerca fondamentale anche presso la nostra politica come essenziale non solo per conoscere la fisiologia del cervello ma per curare le patologie del cervello per lavorare insieme dobbiamo rafforzare le sinergie tra tutte le comunità di ricerca abbattere le barriere evitare la frammentazione e anche la duplicazione degli sforzi dobbiamo promuovere delle attività sinergiche tra discipline e settori diversi così come una stretta relazione e questo è molto importante ritengo tra la ricerca scientifica e clinica lo sviluppo di nuove tecnologie e il trasferimento tecnologico che è ancora molto carente la ricerca e l'accelerazione dell'innovazione qui abbiamo tanti colleghi delle aziende farmaceutiche come come ha citato il presidente Padovani prima io penso che queste due cose in questo scenario siano concetti imprescindibili e rappresentano un aspetto fondamentale per lo sviluppo di questo settore ora nella prospettiva di oggi non solo un manifesto come quello presentato che come ho detto come società di neuroscienze sposiamo appieno ma anche un'agenda strategica di ricerca e di innovazione nell'area del cervello che garantisca il coordinamento e la collaborazione prima cosa a livello nazionale ma anche a livello europeo e a livello globale sia un obiettivo fondamentale che non può essere sottovalutato ci sono state già molte di queste iniziative in Europa mi piace ricordarne alcune ricorderemo tutte l'iniziativa sulle patologie neurodegenerative la rete dei finanziamenti in neuroscienze il progetto Human Brain Project che è dato origine all'infrastruttura e-brains a supporto della ricerca in neuroscienze e anche clinica nel 2019 nell'ambito di una azione di coordinamento europeo l'European Brain Council ha poi creato un tavolo di discussione tra queste grandi iniziative in Europa proprio per mettere in atto delle sinergie concrete e operative identificare la cune e promuovere l'allineamento delle priorità di ricerca portando ad una prima bozza di agenda strategica sottolineando l'importanza della traslazionalità della ricerca e attualmente è in atto perché nel 2022 gli stati membri e i paesi associati hanno ribadito il forte interesse a sviluppare uno sforzo condiviso sulla salute del cervello è stata promossa nel 2023 un'altra iniziativa molto importante è un'azione preparatoria di coordinamento in questo momento coordinata dalla Germania ma dove partecipano molti stati europei anche il nostro paese che è in procinto di identificare priorità condivise e aprire la strada ad azioni più estese l'azione più estesa è dietro l'angolo in questi giorni la Commissione europea discuterà la possibilità di lanciare una partnership europea sulla ricerca e la salute del cervello questa è un'iniziativa molto importante che sosterrà la ricerca nella seconda parte del programma Quadro Horizon Europe in concomitanza con le tempistiche di questo manifesto che sarà fondamentale per tutti i ricercatori tutti gli scienziati tutti i clinici che si occupano di cervello nel nostro paese e tutti ci auspichiamo veramente una completa adesione del nostro paese e della nostra politica a questa partnership e io sono fortemente convinta che la discussione di oggi promossa dal Presidente Padovani sia un primo passo verso questa iniziativa e che anche il nostro paese possa finalmente identificare la ricerca e la promozione della salute cerebrale come una priorità e vi ringrazio moltissimo e questo augurio rappresenta quello che noi auspichiamo perché la ricerca è per tutti noi il punto di partenza e sarebbe davvero auspicabile che nell'ambito delle diverse iniziative che possono fiorire ci potesse essere una agenda strategica di ricerca e innovazione che potrebbe essere anche quella che identifica anche quali sono le priorità per questo paese un paese che rispetto ad altri è sicuramente più vecchio un paese che ha una realtà di comorbidità diffusa delle quali spesso è difficile trovare in qualche modo delle cure che vadano bene un paese in cui noi abbiamo anziani in alcune RSA che hanno 18 farmaci da prendere contemporaneamente per tutte le patologie che hanno e quindi un'agenda condivisa ci permetterebbe anche di ragionare assieme ad altri per trovare delle soluzioni che partono da quello che noi come mondo delle neuroscienze del cervello possiamo sicuramente condividere anche con altri grazie professoressa chiamerei a podio il coordinatore delle rete IRCS neuroscienze e neuroriabilitazione Raffaele Lodi benvenuto basta che firma sentite allora intanto voglio ringraziare l'onorevole Patriarca per aver promosso questa iniziativa e la SIN Alessandro Padovani e il materiale per aver recolto questa opportunità in realtà la rete la rete Rino è una rete in cui all'interno la quale lavorano 30 IRCCS al di là della sigla ostica l'acronimo ostico gli IRCCS sono gli ospedali di ricerca dove è un termine che non mi piace dove si concentra come missione se voi andate sul sito del ministero la missione dell'ECL è affrontare l'eccellenza ed essere strutture eccellenti che affrontano la qualità in realtà sono strutture del servizio sanitario nazionale e regionale che all'interno della quale lavorano professionisti e ricercatori che oltre all'obiettivo di curare si pongono l'obiettivo di comprendere i meccanismi delle malattie e anche sperimentare trattamenti innovativi la rete RIN se nove mesi fa grazie all'iniziativa dell'onorevole patriarca e senatrice Lorenzina la rete RIN è stato fondato è stato costituito un intergruppo parlamentare quindi bipartisan che ha avuto una grandissima credo adesione più di 60 tra senatori e deputati hanno aderito all'iniziativa e da allora la rete RIN insieme alla SINE ed altri interlocutori ha aderito un progetto molto importante e molto ambizioso ce ne siamo resi conto credo oggi noi stiamo come dire gettando le basi concettuali però dovremo poi trovare le risorse definire le priorità con cui realizzare la nostra progettualità in cui come ricordato in precedenza al centro non c'è la malattia ma al centro c'è il paziente e la sua moltiplicità e la necessità di affrontare il tema del paziente e il malato con il coinvolgimento delle istituzioni dei decisori politici società scientifiche e molto importante ricordare sono qui presenti numerosi le associazioni dei pazienti quelle quali per l'appunto definire gli obiettivi e le priorità che da raggiungere la rete RIN è uno spaccato relativamente ridotto del mondo sanitario del nostro paese quello che fin dalla fondazione abbiamo cercato di fare a partire dal 2017 è quello di lavorare in maniera interdisciplinare con il coinvolgimento sul territorio nazionale dei ricercatori professionisti clinici più valenti attualmente abbiamo circa 1300 ricercatori professionisti che direi costantemente lavorano progetti di ricerca clinica prevalentemente nell'ambito delle principali malattie neurologiche neurodegenerative neurooncologiche epilessia malattie rare l'attività della nostra rete si è concentrata in questi anni principalmente sulla identificazione dei meccanismi di malattie parallelamente biomarcatori innovativi di malattia più di recente come sa il dottor Nicoletti grazie a una joint action coordinata dall'istituto superiore di sanità ci stiamo impegnando invece in un progetto di prevenzione delle malattie di disturbi cognitivi legati a malattie neurologiche in particolare malattie degenerative cerebrovascolari è una joint action che a livello nazionale è coordinata dall'istituto superiore di sanità e che vede in quale la letterina ha raccolto numerosi istituti e anche numerose regioni che sono coinvolte vediamo un po' i punti io volevo credo che è importante iniziare a focalizzare quali sono i punti di intervento perché ovviamente il programma è estremamente ampio se parliamo di prevenzione oggigiorno sappiamo che le malattie ad esempio neurodegenerative risentono certamente in termini di esordio e di velocità di progressione di fattori non legati direttamente al meccanismo biologico della mattia stessa è stato citato in precedenza non so se se volete proiettare la deputazione di precedenza dove ci sono i determinanti biologici e i fattori di prevenzione quindi l'esercizio un corretto stile di vita un corretto sonno un un eccolo qua vedete quanti sono i parametri l'isolamento sociale ad esempio che fino a qualche anno fa probabilmente era fuori dalla prospettiva di un neurologo credo che nell'ambulatorio neurologo raramente si chiedeva al paziente con problemi presunti cognitivi quanta attività fisica faceva come mangiava e se aveva buone relazioni sociali è dimostrato numerosi studi internazionali che l'isolamento sociale anticipa l'esordio di malattie neurodegenerative come l'alzheimer e determina una rapidità della progressione ebbene tornando a questo studio a questo progetto europeo molto importante di prevenzione vi devo sottolineare che in un progetto con 25 paesi il finanziamento a disposizione di 4 milioni credo in 4 anni quindi ovviamente ci vuole un impegno del decisore politico noi lo aiuteremo a determinare le priorità ma un impegno importante che certamente va ben oltre la durata di una legislatura i risultati a differenza dell'abbattimento delle liste d'attese i risultati di questo tipo di attività richiedono tempo come la ricerca un secondo punto che volevo sottolineare una settimana fa al senato è stato presentato una proposta di legge relativa dalla senatrice Lorenzine relativa a un tentativo di semplificare la vita dei ricercatori per quanto riguarda l'applicazione del nostro paese la norma della privacy voi vedete l'hanno tolta in queste diapositive quanti sono gli elementi sono numerosissimi gli elementi che influenzano sull'espressione di una malattia neurologica e non solo questo significa che è importante che noi sul singolo paziente siamo in grado di acquisire tantissimi dati adesso abbiamo strumenti per farlo per seguirlo a domicilio attraverso sensori attraverso tantissimi anche strumenti che la tecnologia ci metterà a disposizione oggigiorno abbiamo e questo credo che è importante sottolinearlo perché noi dobbiamo nell'applicare questo piano parallelamente dovremo cercare di contribuire alla progressione delle conoscenze e ricerca si fa ricerca clinica in particolare utilizzando tantissimi dati nel nostro paese attualmente vi ha una fortissima limitazione legata ad un'applicazione molto molto rigida del GDPR europeo nell'utilizzo dei dati vi faccio un esempio e poi e poi firmo il nostro istituto e molti diversi RCCS della nostra rete sono coinvolti in un progetto piano operativo salute che sono progetti che nascono con l'affinità proprio di affrontare in rete diverse tematiche è uno studio di genomica cioè verrà sequenziato due gruppi di malattie MSA che è una forma di Parkinson particolarmente severa ed MCI pazienti con MSA purtroppo dall'isola della malattia hanno una prospettiva piuttosto limitata orbene dopo credo un anno e mezzo di discussione con i nostri DPO Data Protection Officer non siamo ancora riusciti a capire se riusciremo a realizzare questo progetto finanziato in quanto se un paziente è deceduto non possiamo usare il materiale biologico che abbiamo nei nostri ospedali e se non è deceduto dobbiamo in qualche modo cercare di rintracciarlo direttamente o se parliamo di disturbi cognitivi attraverso i familiari e questo ha impiegato il primo anno i primi 18 mesi dell'attività di questo specifico progetto questo purtroppo non è un caso isolato io credo che parallelamente a questo tipo di iniziative dovremmo fare uno sforzo affinché la difficoltà esistente nel nostro paese in utilizzo secondario dei dati sanitari venga superato superando anche le diffidenze il nostro paese è di dossieraggi di diverso tipo adesso periodicamente siamo investiti dobbiamo trovare degli strumenti sicuri per garantire la praviso del paziente ma anche di utilizzare dei dati che nel nostro paese noi raccogliamo con risorse direi interamente pubbliche perché il servizio sanitario nazionale e regionale è un sistema pubblico quindi io di nuovo ringrazio Padovani e Matilde per l'iniziativa a cui aderiamo sicuramente con grande entusiasmo grazie 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 mille ed ecco la firma la firma adesso eh no eh sì ma io ma io sono un rottweiler venga qui indubbiamente il tema ha emerso del condivisione dei dati e dei dati che credo vada nel nostro paese anche insieme alla riforma dei CET i comitati etici territoriali che apre anche un altro capitolo è un tema che entra sulla possibilità di fare ricerca che penso possa essere uno dei temi non collaterali ma centrali nell'ambito di quello che è lo sviluppo di una collaborazione perché sono più le commonalities che le diversities nell'ambito di quello che è l'uso dei dati e l'utilizzo dei comitati etici e delle varie questioni che emergono per poter far partire davvero un progetto grazie prossimo intervento del presidente della federazione nazionale medici chirurghi odontoiatri Filippo Anelli ancora non c'è ok perfetto allora lo dipendiamo al momento e andiamo al vice direttore generale ah è collegato non ah si è collegato no allora ok scusate mi state confondendo mettiamo ordine Anna Rita ciao ciao io sono collegata con voi da New York sì sì questo lo sapevo però ecco a un certo punto ho sentito la tua voce siamo qui anche grazie a te ho detto scusatemi di non essere intervenuta prima ma avevamo la comitanza di intervento qui a Nazioni Unite e io ho parlato per l'Italia nel panel che ho intervinto se posso vi porto il mio saluto voglio ringraziare la FIND di Paffani per l'interessa collaborazione che questo ci ha visto partecipi e portare a casa anche dei risultati importanti la salute del cervello e l'approccio che vogliamo utilizzare per affrontare questa tematica approccio condiviso è fatto prima di tutto di ascolto di confronto e di scelte strategiche fondamentali prese assieme questa è stata la caratteristica di quello che ci ha guidati quest'anno da un lato noi con l'intergruppo sulle malattie neurologiche dall'altro lato tutta la comunità scientifica che è stata per noi sparone da un lato ma anche grande supporto io condivido quanto scritto nel manifesto lo sottoscrivo da qui è per noi un punto di partenza ma soprattutto è la traccia di dove vogliamo arrivare che cosa dobbiamo fare insieme quali sono le prospettive e le priorità dell'azione di governo e parlamentare che dobbiamo affrontare affinché riusciamo a dare risposte pratiche ed efficaci a problemi di salute che conosciamo voglio dire voglio dirlo con soddisfazione il finanziamento del fondo Alzheimer che sembrava il rifinanziamento del fondo Alzheimer che sembrava quasi una chimera è stato frutto di un lavoro di una collaborazione che ha visto spalla a spalla associazioni dei pazienti comunità scientifica e parte politica e non è stato facile oggi la cosa più importante dopo aver ottenuto quel finanziamento è orientare il corretto utilizzo delle risorse questo deve essere un po' la guida per tutto fare insieme battaglie per reperire finanziamenti ma trovare anche i modi più efficaci affinché questi finanziamenti riportino alle soluzioni sperate abbiamo una serie di problemi da affrontare riguardano la sfida più importante secondo me per il sistema sanitario italiano è quella di omogeneità sul territorio omogeneità nella prevenzione omogeneità nelle letture di qualità e omogeneità per quanto riguarda le cure domiciliari sono i tre aspetti fondamentali della gestione del paziente che devono crescere di pari passo e devono essere in tutto il territorio nazionale omogenei per far sì che da nessuna parte bisogna sentirsi privilegiati o svantaggiati soltanto perché si nasce in una parte del paese e non in un'altra detto questo io non posso stare tanto con voi voglio soltanto ribadire l'impegno la presenza la partecipazione preventiva abbiamo inaugurato un modo di operare insieme che è quello di confrontarci con chi vive quotidianamente determinate questioni determinate realtà e assumere assieme le decisioni dopo il confronto questo è stato quello che ci ha guidato in questo anno e quello che ci guiderà negli anni successivi siamo consapevoli non solo perché ci dicono i numeri che le patologie che riguardano il cervello sono quelle con un'enorme diffusione altamente impattante nella vita dei cittadini lo sappiamo perché ci confrontiamo quotidianamente con i problemi e con il sistema sanitario quindi siamo in prima linea sono in prima linea ribadisco l'impegno e la sottoscrizione e la condivisione di quanto scritto in questo manifesto ringrazio ancora Padovani e tutti quelli che hanno voluto e organizzato questo evento vi lascio i saluti grazie grazie all'onorevole patriarca di essersi collegata con noi e per aver voluto fortemente ed accolto fortemente questo evento di presentazione del manifesto nel frattempo mi arriva notizia che il presidente della federazione nazionale dei medici chirurghi odontoiatri Filippo Anelli è bloccato con il treno quindi non ci potrà raggiungere il motivo per il quale non è qui proseguirei con il vice direttore generale di farmindustria Carlo Riccini che può raggiungerci al podio e grazie anche a lei Buonasera sarò molto breve intanto porto i saluti e ringraziamenti anche del presidente Cattani che ha fatto di tutto per esserci ma non ha potuto poi partecipare quindi sono da lui delegato per portare intanto un saluto e un grande apprezzamento per questa iniziativa credo che il tema delle del del One Brain One Health colga un punto molto importante strategico di salute globale i dati sull'importanza di queste patologie per mortalità disabilità li abbiamo già sentiti volevo aggiungere un elemento in più di riflessione che è sempre legato all'invecchiamento l'invecchiamento non solo fa aumentare la frequenza dei casi quindi l'incidenza della di queste patologie ma in realtà cambia anche il modo di affrontarle un recente dato Istat ci ha mostrato che oggi sono 8,4 milioni le persone che vivono sole tra 20 anni saranno 9,8 è chiaro che questo tipo di patologie come tutte le patologie ma queste se vogliamo anche di più affrontate in una società che cambia vanno viste con una strategia prospettica quindi è molto interessante un ragionamento come quello di oggi che coglie diversi diversi aspetti l'industria farmaceutica qui sono presenti alcune tra le aziende più importanti si sta impegnando molto nella ricerca per questo tipo di patologie sia nei farmaci che arrivano ogni anno sia in una pipeline è diciamo in sostanza la seconda grande area per studi clinici in Italia è un mix quello delle patologie per la salute la salute mentale è un mix di tecnologie diverse prodotti di sintesi chimica prodotti biotech fino alle terapie avanzate la cosa che credo sia interessante è che si è che si adatta molto a una discussione come quella di oggi in cui ci sono vari punti di vista e qui vado a chiudere è che per il tipo di patologie è interessante vedere questo fenomeno in controluce con la ricerca farmaceutica delle scienze della vita che sta andando al crocevia tra una ricerca scientifica di altissimo livello e l'uso di tecnologia già abbiamo parlato del digitale quindi c'è un'innovazione che ha diverse facce e alla quale si deve affiancare una grande innovazione organizzativa e regolatoria per affrontare in modo nuovo questo tipo di questo tipo di di sfida quindi una strategia che coglie in generale da un lato una grande valorizzazione a un tessuto scientifico di eccellenza come è stato detto e per cui l'Italia ha una specializzazione importante in questo tipo di patologie di patologie c'è il tema dell'omogeneità delle cure che è stato citato in precedenza e infine c'è e questo è l'ultimo un ragionamento che dovremmo probabilmente fare insieme sulle competenze dei professionisti anche il numero dei professionisti di percorsi formativi perché questo certamente è un tipo di dai medici fino a tutti i professionisti sanitari e i professionisti in azienda quindi forse questo è l'ultimo dei punti in più che aggiungo alle tante riflessioni ma in realtà è un tema è un metodo che è molto interessante guardiamo ovviamente a questo tipo di fenomeni con grande attenzione e seguiremo anche le prossime le prossime iniziative con attenzione quindi vi ringrazio grazie grazie deve firmare anche lei posso farvi una proposta perché siccome io sono il colibri volevo proporlo al colibri presidenziale che oggi non è con noi però non ha avuto modo di farglielo di farglielo di sottopoglielo quindi daremo poi eventualmente diciamo vi vi va bene tanto in realtà era un impegno da parte di sì ma noi sicuramente guarderemo con grandissima attenzione oggi siamo qui però diciamo per una firma firmo io per Marcello Cattani poi ti chiedo il consenso lo sentirò tra stasera e domani grazie mille grazie moltissimo anche a lei professoressa grazie io chiuderei qui questo panel e andrei al successivo che si lega molto bene il titolo è un'alleanza tra i professionisti sanitari per la salute del cervello in un'ottica multidisciplinare tra le parole più citate oltre a sfida c'è stato insieme sinergia interdisciplinarietà multidisciplinarietà io chiamo a raggiungermi qui al tavolo il professor Alfredo Berardelli past president della società italiana di neurologia benvenuto professore grazie che modererà questa successiva sessione che vedrà insieme i professionisti sanitari tutti insieme in un'alleanza per la salute del cervello intanto benvenuto grazie grazie anche a lei sono ben felice di essere qui ringrazio Alessandro Padovani e Matilde Leonardi per questo lavoro che hanno fatto per organizzare questa giornata che è importantissima sì io adesso modererò questa sessione voglio solo dire due due parole di introduzione penso che abbiamo ascoltato l'idea che è alla base di questo di questo manifesto e credo che la la prima parte di oggi abbia dimostrato come l'idea è chiaramente vincente è importante e tutti noi ci crediamo è nel solco della tradizione della società italiana di neologia che con tanti anni di cosiddetta settimana del cervello abbiamo sempre portato avanti queste tematiche questa è particolarmente importante anche perché presuppone la collaborazione con le altre società e questo credo che sia veramente l'elemento di grossa novità è che noi dobbiamo preparare bene e dobbiamo abbiamo già sentito poco fa Alberto Siracusano che ha accennato appunto alla psichiatria alla neurologia in questo contesto io penso che noi la SIN vuole promuovere questa iniziativa la SIN è una grande società molto forte molto capillare nella sua organizzazione culturalmente molto avanzata mi sento di dire anche questo la ricerca neurologica tra l'altro ricordo che la ricerca neurologica è fra i primi posti in Europa noi siamo il quarto paese come produttività nel mondo come produttività scientifica però noi dobbiamo fare questo assieme a tutte le altre società e ognuno dal proprio punto di vista dobbiamo collaborare ad attivare questo manifesto quindi questa è veramente la cosa importante di questa sessione e io sarò molto lieto e curioso ma sono sicuro della risposta positiva cosa pensano le altre società scientifiche tutti noi dobbiamo collaborare ognuno con la propria angolazione con una finalità comune che è quella della salute del cervello quindi con questo direi che possiamo dare il via li chiamo io se vuole ok allora iniziamo dalla presidente della società italiana di psichiatria Liliana dell'osso ci organizziamo così io glieli chiamo tutti e lei poi se vuole commentare l'intervento facciamo insieme seguirò quello facciamo un'alleanza anche qui oh bravissima il pieno è qui è qui è qui sì sì dell'osso salutando quasi paura di firmare alla fine come se possano possono dimenticare quello che è certo è vero sì al podio prego voilà beh il suo punto di vista tanto per cominciare è sicuramente molto importante quindi siamo lieti di ascoltarla per qualche minuto grazie grazie dell'invito sono molto contenta di essere qui qual è la situazione il punto di vista della psichiatria la psichiatria nelle ultime due decadi del nuovo millennio sta vivendo una rivoluzione silenziosa che io per tanti versi paragono a quella di cui abbiamo tanto sentito parlare in questi giorni della fine degli anni settanta la rivoluzione basaliana anche se meno clamorosa mi riferisco al cambiamento importante della grande crisi diciamo della nosografia e della diagnosi in psichiatria e sicuramente condizionerà quello che è diciamo l'inquadramento la gestione e la terapia dei nostri pazienti e anche la comprensione dei disturbi mentali nel 1978 l'Italia avvia il processo del superamento di manicomi e degli ospedali psichiatrici giudiziari con un processo di deistituzionalizzazione totale senza precedenti oggetto di studio a livello internazionale è stato l'unico paese al mondo che effettivamente ha superato l'istituzionalizzazione e ha creato una rete di assistenza psichiatrica di comunità ma soprattutto un assetto giuridico normativo di tutela dei diritti delle persone affette da disturbi mentali fondato su solidi principi democratici cosa possiamo dire di questo a distanza di 40 anni di oltre 40 anni che l'utenza dei servizi pubblici pazienti che oggi ci chiedono assistenza rappresenta solo e rappresentata dal 25% semplicemente solo il 25% dei pazienti che ci chiedono assistenza sono quelli con un disturbo per cui la rete di assistenza psichiatrica è stato creato all'inizio diciamo degli anni 80 solo il 25% gli altri 75% cosa sono? sono disturbi dello spettro autistico sono le patologie emergenti alcune addirittura un ritorno di vecchie patologie il covid i malati di covid morivano di catatonia da disturbo organico e quindi le dipendenze comportamentali quindi tutta una serie di patologie per cui la rete psichiatrica territoriale non è attrezzata ecco tra l'altro e quindi oggi noi abbiamo l'obiettivo di combattere queste carenze proprio legate alle mutate richieste e bisogni di cura e anche ai profondi cambiamenti del paese tra l'altro accanto alla rivoluzione basagliana noi ci siamo trovati di fronte alla rivoluzione del DSM all'enfasi sulla diagnosi un sistema diagnostico che partiva sulla base delle esigenze della psicofarmacologia clinica e quindi che doveva aveva bisogno di gruppi omogenei di farmaci di pazienti su cui testare i nuovi farmaci e quindi eh diagnosi create a tavolino sulla base di cluster statistici niente a che fare con quella che è la situazione oggi della psichiatria eh che diciamo finalmente può attingere ai risultati della ricerca neuroscientifica e quindi superare una diagnosi eh diagnostico clinico descrittiva neocrepeliniana e finalmente eh approdare alle nuove alle neuroscienze ecco io devo dire che ehm questo processo di eh diciamo eh rinnovamento della diagnosi psichiatrica è nato proprio e da questo punto di vista mi sento una privilegiata a metà degli anni novanta a Pisa con la scuola pisana che ha valorizzato la dimensionalità le categorie che è necessaria a farmindustria in realtà creano troppi falsi negativi nell'assistenza quindi vanno bene eh i falsi negativi se io escludo dei pazienti ma da una ricerca ma naturalmente un falso negativo è un paziente che non viene diagnosticato e quindi non viene curato e e questo ehm ha portato a Pisa a creare eh tutta una serie di strumenti di valutazione del per la diagnosi precoce per la patologia sottile sottosoglia che ha prodata eh negli anni recenti alla eh disturbi del neurosviluppo al disturbo dello spettro autistico che oggi viene visto proprio come la matrice neurobiologica di ehm eh vulnerabilità alla psicopatologia ecco in questa ottica naturalmente eh le malattie psichiatriche eh oggi eh vengono viste come malattie che non interessano solo un organo cioè il cervello ma che coinvolgono anche moltissimi altri sistemi biologici e ambientali sia per quello che riguarda l'esordio che per quello che riguarda le loro manifestazioni inoltre i disturbi mentali sono spesso in comorbidità con condizioni mediche neurologiche diabete pensate di subire la condotta alimentare malattie cardiovascolari disturbi gastrointestinali e riconoscono meccanismi eziopatogenetici comuni con eh disfunzioni del sistema immunitario del sistema endocrino tipo l'asse ipotalamo ipofisi sul rene il microbioma intestinale pensiamo a quelli che sono gli studi a partire dai veterani del Vietnam sull'impatto degli eventi traumatici a livello proprio del substrato neurobiologico cerebrale quindi è evidente che un'alleanza multidisciplinare con altri professionisti sanitari come appunto neurologi psicologi fisioterapisti nutrizionisti assistenti sociali infermieri sono eh assolutamente necessario nell'ottica appunto dell'unico obiettivo che è quello di promuovere la salute del cervello e di fornire una cura ottimale personalizzata per il singolo paziente concludo sottolineando un importante aspetto rappresentato dalla discriminazione nei confronti della psichiatria rispetto alle altre discipline mediche spesso oggetto di stigma sociale sia tra i colleghi medici che tra il pubblico in generale questo stigma naturalmente può portare ad una sottovalutazione dei problemi di salute mentale e della necessità stessa della figura dello psichiatra che spesso viene visto come intescambiabile con altre figure come quelle per esempio dello psicoterapeuta eccetera fino alla discriminazione nei confronti dei pazienti che soffrono di disturbi mentali è una diffusa diffidenza verso la farmacoterapia un'importante conseguenza della discriminazione della psichiatria riguarda anche la distribuzione delle risorse e del finanziamento con risorse minori rispetto a quelle destinate ad altre specializzazioni mediche nonostante il fatto che i disturbi mentali siano estremamente diffusi e abbiano un impatto significativo sulla salute pubblica basta guardare i grandi studi epidemiologici condotti a più riprese dall'università di Harvard per rendersi conto che qui parliamo di una prevalenza che sfiora il 50% della popolazione se si considerano appunto tutte le diagnosi possibili psichiatriche quindi bisogna affrontare la discriminazione nella psichiatria promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione dei disturbi mentali sradicare lo stigma associato alla salute mentale garantire che i servizi psichiatrici ricevano risorse adeguate per fornire cure di alta qualità ai pazienti rispettose della loro dignità e dei loro diritti ultima cosa da professore universitario sottolineo l'importanza della formazione per quello che riguarda studenti di medicina specialisti specializzazioni psicologi eccetera cioè una formazione completa e equilibrata che includa la salute mentale e la psichiatria nell'ottica di un superamento del dualismo mente-corpo in modo da creare una nuova generazione di professionisti che riconoscano l'importanza della salute mentale e siano preparati ad affrontare le sfide che essa presenta vi ringrazio dell'attenzione grazie grazie per questo intervento credo che il senso che emerge da questo intervento è quello che dobbiamo contribuire fondamentalmente con angolazioni diverse alla salute mentale e forse anche attraverso questo la possibilità molte delle difficoltà della psichiatria potrebbero essere anche superate penso grazie mille e andiamo avanti sì sì il prossimo è Vincenzo Leuzzi società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza benvenuto do il benvenuto al professor Leuzzi mio collega alla sapienza vorremmo sentire il punto di vista anche dei nostri neuropsichiatri infantili grazie grazie è un'area particolarmente fragile quella è evolutiva il nostro istituto è stato uno dei primi in Italia a sviluppare uno screening nel Natale e nel 1974 si processavano i prelievi di circa 65.000 nati e l'anno scorso i nati nella regione Lazio sono stati circa 35.000 quindi è una categoria da salvaguardare perché è in via d'estinzione la nostra specialità ha sempre mantenuto quell'approccio olistico che poi era un po' un imprinting dato e lasciato dal professor Giovanni Bollea e ovviamente sono passati molti anni anche moltissime cose sono cambiate ma abbiamo mantenuto l'unitarietà della disciplina per molteplici ragioni ma volendo schematizzare e proiettandoci un po' in aspetti pratici dobbiamo considerare tre importanti aree tre importanti filoni che fanno parte di questa specialità e che hanno delle ricadute diverse da un punto di vista dell'organizzazione sanitaria e certamente anche della ricerca la prima di queste di queste aree è quella della disabilità legata a malattie organiche malattie neurologiche questa è un'area estremamente importante che ha moltiplicato le sue categorie diagnostiche soprattutto nell'arco degli ultimi dieci anni c'è stata un'esplosione di diagnosi di malattie rare singolarmente rare ma dobbiamo tener conto che l'80% di malattie monogeniche si manifesta durante l'età evolutiva 0-18 anni e che la maggior parte di queste si presenta o manifesta poi in seguito dei disturbi neurologici quindi questa è un'area in enorme espansione che riguarda mediamente 2-1-2 bambini su 100 ha importanti implicazioni diagnostiche importanti implicazioni terapeuti comincia ad avere ma anche importanti implicazioni medico-legali perché iniziano ad essere disponibili ai trattamenti personalizzati e specifici e il ritardo diagnostico risulta penalizzante sono malattie complesse spesso sono malattie croniche che richiedono diagnosi certamente appannaggio di pochi centri che relativamente pochi centri che abbiano disponibilità di strutture e laboratori in grado di identificare queste condizioni ma che devono essere inseriti in una rete di interventi di prossimità rispetto al paziente perché si tratta di pazienti spesso con condizioni croniche che hanno bisogno poi di essere eseguiti per interventi riabilitativi e altro presso la propria presso la propria sede inoltre è un problema importante che si sta sviluppando nel contesto della comunità europea ma è un po' un argomento comune a vari ambiti con il problema della transizione moltissimi di questi pazienti con malattie rare e complesse hanno difficoltà a poter essere acquisiti da specialità diverse una volta che raggiungo la maggiorità quindi questa prima area è un'area che possiamo considerare fortemente specialistica da un punto di vista strutturale delle capacità diagnostiche anche se deve essere inserita in una rete di medicina di prossimità una seconda area disciplinare è stata già evocata precedentemente ed è quella che ha avuto una definizione particolarmente ampia nell'arco degli ultimi due decenni che è quella di disturbi del neurosviluppo che sono in assoluto la causa più frequente di consultazioni in l'ambito della neuropsichiatria infantile e che presenta un'incidenza complessiva che riguarda circa il 10 il 9 10% della popolazione minorile parliamo dei disturbi ospetto autistico che sono intorno a 1 al 60 delle sindrome da iperattività e instabilità attentiva che è ancora più frequente quindi siamo di fronte a delle peraltro condizioni questa che ormai è ampiamente riconosciuta anche nella patologia dell'adulto diversamente dalla precedente dalla precedente rete assistenziale quella relativa a malattie di alta complessità diagnostica e terapeutica qui si tratta di una patologia diffusa che richiede una rete territoriale fortemente competente multidisciplinare sia per la diagnosi che non richiede abitualmente specifiche competenze strumentali ma sono richiesti dei team di intervento e di valutazione e di valutazione e di valutazione riabilitativa che devono essere prossimi al paziente il più possibile per alcune condizioni sono disponibili delle linee guida come per esempio per il disturbo spettro autistico ma anche per la DHD ma complessivamente il trattamento ha una connotazione fortemente personalizzata e va costruita sul singolo paziente l'aspetto rilevante è che un ritardo diagnostico è anche un ritardo in interventi riabilitativi in questi ambiti nell'ambito di queste condizioni spesso determina un'evoluzione di questi pazienti verso disturbi più francamente psichiatrici che risultano poi molto più difficili da affrontare da un punto di vista terapeutico da questo punto di vista c'è una importante carenza dei servizi drammatica carenza di servizi soprattutto in alcune regioni in alcune aree del paese vi è una carenza di specialisti vi è una carenza delle figure fondamentali che servono terapisti logopedisti assistenti sociali tutta quella rete di professionalità che sono indispensabili per prendere in carico questi pazienti quindi abbiamo la terza il terzo filone che è quello certamente più in crisi rispetto ai due precedenti da un punto di vista assistenziale non certamente da un punto di vista ricerca soprattutto per quanto riguarda la ricerca internazionale che riguarda soprattutto i disturbi psichiatrici in età prepuberale e adolescenziale qui siamo veramente in una situazione di grande difficoltà da un punto di vista assistenziale come è stato già detto prima di me fra i 15 e i 25 anni sono questi disturbi che hanno una maggiore incidenza nella qualità di vita dei pazienti della popolazione generale e che da 0 a 18 anni il 15 per cento di pazienti cumulativamente sviluppa sintomi manifestazioni psichiatriche quindi siamo di fronte tutto questo ovviamente si è andato aggravando ma fondamentalmente nell'arco degli ultimi 20 anni c'è una tendenza a una maggiore accentuazione di questi disturbi psichiatrici condotte anticonservative disturbi del comportamento alimentare sono condizioni queste estremamente frequenti inoltre quest'area è fortemente come dire attraversata e anche influenzata da cambiamenti sociali che sono estranei sostanzialmente alle altre due filoni basti pensare all'abuso di sostanze già a partire dai bambini di 12 anni il peso dei mass media di internet e altri fattori che di fatto stanno cambiando e cambia hanno cambiato in questi anni anche la configurazione clinica e le possibilità di intervento su queste condizioni la mancanza di sensori di sofferenza psichica del bambino ed adolescenza nei contesti di normalità spesso procrastina in fasi molto più avanzate spesso drammatiche gli interventi diagnostico terapeutici non c'è al momento una risposta adeguata da un punto di vista assistenziale per questo tipo di patologie si sono un po' moltiplicate in questi anni dei reparti di ricovero d'emergenza per adolescenti che in grado di mettere a rischio la propria vita o quella dei propri caregivers ma evidentemente questo rappresenta degli interventi emergenziali e certamente la carenza di posti letto e l'individuazione di strutture per la subacuzia va colmata con urgenza consapevole tuttavia che il ricovero segnale in molti casi il fallimento di interventi precedenti che spesso non hanno avuto luogo perché non è stato sviluppato un sistema di segnalazione precoce dei sintomi che emergono come segno di sofferenza per bambini e per ragazzi in questa fascia d'età questa è un'area di grande criticità assistenziale in questo momento grazie grazie vincenzo mi sembra di cogliere due difficoltà su cui tu poni attenzione innanzitutto la necessità di un di un miglioramento della della medicina di prossimità e attraverso reti quindi multidisciplinari questa è la la prima necessità che va è in linea con quello che noi diciamo con questo manifesto è l'altra cosa che sicuramente bisogna migliorare l'assistenza sanitaria di nuovo con un approccio multidisciplinare mantenendo sempre più un sistema universalistico questo aggiungerei grazie grazie venga pure a firmare ed ecco qua le uzi ok e la ringrazio moltissimo a testimonianza di come la salute del cervello vada perseguita preservata in tutte le fasce di età passiamo alla società italiana di gerontologie e geriatria il presidente Andrea Ungar buonasera buonasera a tutti grazie grazie infinite al professor padovani per aver voluto anche i geriatri in questa giornata è un caso ma non lo è che veniamo dopo il neuropsichiatra infantile perché parto subito dicendo che io parlo sempre di voi sapete che sono di Firenze a Firenze c'è il maier ospedale pediatrico c'è il maier io dico sempre che per l'anziano ci vuole il maier dell'anziano quindi siamo molto simili ci vuole il letto per la mamma di là ci vuole la poltropa il parente la lettera di dimissione non la dà né al grande anziano né al bambino quindi è una e la multidisciplinarità è un intervento olistico è fondamentale per il paziente geriatrico credo che l'apporto della geriatria in questo nel futuro della salute del cervello sia proprio quello di promuovere l'approccio geriatrico al paziente anziano in particolare all'anziano fragile perché poi l'anziano robusto lo curiamo esattamente come il paziente più giovane portare l'approccio geriatrico vuol dire guardare allo stato funzionale vuol dire guardare all'integrazione all'interno della sua situazione sociale ho letto la professoressa Leonardi nel documento scrive cervello in relazione con l'ambiente fisico e sociale per un geriatra questo è sono parole molto belle tutto il lavoro nell'ambito del mondo nel decadimento cognitivo che ci ha sempre visto lavorare paralleli qualche volta molto sinergici qualche volta molto meno credo che dobbiamo essere assolutamente uniti nel mondo dell'approccio al paziente con decadimento cognitivo e con malattie ripagni insomma il paziente con malattie degenerative voi sapete che quest'anno cioè all'inizio del 23 è stata approvata una legge delega la legge 33 per l'assistenza all'anziano siamo in fase di decreti attuativi consiglio a tutti i neurologi di leggerla perché è un manifesto bellissimo di quello che dovrebbe essere l'assistenza all'anziano siamo molto lontani siamo in una sede nella quale si sta lavorando per portarla avanti però realmente è anche in questo unire le forze anche delle società scientifiche può essere molto importante nel rivoluzionare il paradigma dell'assistenza all'anziano che vuol dire fine delle mura sia fra l'ospedale e il territorio che fra le specialisti perché il paziente è uno il sistema sanitario nazionale è uno e noi lo dividiamo in tanti pezzetti ma non è possibile curare questi anziani a pezzi né come luoghi né come figure di lavoro quindi ricerca comune ultimi due aspetti promulgare ed essere proattivi contro l'ageismo e questo da un punto di vista per esempio dell'analogia è incredibile pensate quanto si consideri normale il deterioramento cognitivo legato all'età ma cosa vuoi hai 85 anni ma siccome Morricone ha diretto l'orchestra fino a sei mesi prima di morire si può arrivare con un cervello che dirige l'orchestra quindi contro l'ageismo abbiamo appena scritto una carta internazionale la carta di Firenze contro l'ageismo che potete trovare pubblicata dalla settimana scorsa e ultimissimo ma non ultimo punto che ci unisce tantissimo da un punto di vista assistenziale e sociale la lotta la solitudine che prima è stata citata perché la solitudine determina malattia tutte le malattie ma molto le malattie neurologiche quindi campagne contro la solitudine campagne contro l'ageismo e poi arriveremo anche all'attività più pratica ma credo che questi siano alti obiettivi che le nostre società possono portare avanti insieme grazie mille grazie a lei prego la firma la firma presidente eccoci qua vuole commentare grazie grazie mille per queste per queste queste idee espresse che condividiamo pienamente penso che veramente non vorrei aggiungere altro insomma siamo siamo d'accordissimo con tutto quello che lei ha detto anche con l'immagine che ci ha dato anche con l'immagine del bambino e della persona molto anziana che hanno entrambi bisogno di una persona accanto quindi in qualche modo possono essere avvicinati no? anche se così lontani come generazione molto bella questa immagine grazie allora passerei la parola adesso al presidente della società italiana di riabilitazione neurologica la SIRN Antonio De Tanti buonasera buonasera grazie a SIRN per l'invito grazie a Matilde Leonardi che è un'amica con cui collaboro da tanto tempo direi che chiaramente la SIRN sposa in assoluto il manifesto che oggi è stato presentato e a testimonianza che questa cultura fa parte proprio del patrimonio genetico della nostra società vi faccio vedere questo che è il manifesto del prossimo congresso nazionale che si terrà a Parma del 2025 in cui un mese fa quindi prima che usisce questa cosa abbiamo dato il titolo nutrire il cervello curare il pianeta innovazioni in neuro e riabilitazione all'insegna di One Health per cui direi che questo mandato dell'organizzazione mondiale sintonia perfetta ma noi siamo in realtà una costola di SIN quindi c'è una genetica vera che ci vede molto vicini quali sono le caratteristiche fondanti della nostra società noi ci interessa e siamo fortemente convinti della necessità dell'urgenza di un trattamento precoce che è il primo strumento di prevenzione del danno secondario nelle patologie di cui ci facciamo carico e quindi riteniamo che il neuroriabitatore deve essere presente negli ambienti di cura tipo la terapia intensiva la neurochirurgia la stroke unit proprio perché è da lì che si parte si deve partire precocemente e si deve essere in grado poi di garantire un intervento protratto nel tempo per tutto il tempo che ogni condizione patologica richiede e qui ci sarà da discutere sulla reale sussistenza nelle condizioni attuali di tutte le risorse necessarie per poter veramente garantire questo in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e quindi riteniamo che si debbano essere costantemente attivati si devono attivare sette indi cura che siano conformi al momento della fase della malattia al cambiamento dei bisogni del paziente perché la scommessa che noi ci prendiamo quando prendiamo in carico un paziente è di riuscire a portarlo alla migliore qualità della vita nel suo reinserimento nell'ambiente naturale di vita pur con la disabilità residua che sarà spesso presente per far questo un altro dei punti di forza che consigliamo come arma vincente è quello di avvalerci di un team multiprofessionale in cui tante figure oltre alle figure mediche sono sempre più persone competenti esperte che stanno crescendo in termini di qualità e anche di capacità di produzione scientifica fra le professioni non mediche fra queste ricordo l'importanza nei nostri reparti dell'infermiere esperto in riabilitazione al punto che ritengo che sia una specialità nella specialità e quindi su questo si deve lavorare in una formazione congiunta interprofessionale che parte dall'università ma deve poi andare avanti per tutto il resto della nostra carriera professionale altro elemento fondamentale è il coinvolgimento del caregiver il caregiver che è tanto più importante quanto la persona disabile e che quindi è nello stesso tempo uno strumento terapeutico in più che collabora con il team dei riabilitatori è un portatore della testimonianza dei bisogni inespressi in una certa fase di malattia dal paziente ed è nel contempo un elemento di fragilità di cui dobbiamo farci carico per aiutare in questo senso il caregiver riteniamo che la SIRN e tutte le società debbano ovviamente coltivare molti rapporti con le associazioni dei familiari che sono quindi ovviamente ben presenti oggi e anche con tutto il volontariato perché in questo contesto tutti gli strumenti vanno reclutati per arrivare ai nostri obiettivi ecco vorrei ricordare che la SIRN si interessa in modo specifico oltre che di gestione e manutenzione delle reti cliniche per cercare di dare omogenità di intervento sul territorio nazionale alla ricerca una ricerca che è prevalentemente applicativa e che vede un'area di particolare sviluppo quello delle nuove tecnologie qui intendo robotica realtà virtuale teleriebiltazione intelligenza artificiale e da questo punto di vista segnalo un cambio del paradigma che secondo me è interessante anche da generalizzare fino a qualche tempo fa noi eravamo utenti un po' naif delle tecnologie innovative robotiche dopo una importante conferenza nazionale di consenso cicerone che si è conclusa da poco noi siamo stati i principali promotori adesso siamo coinvolti alla pari con i bioingegneri perché adesso stiamo cominciando a costruire degli strumenti robotici che partano dai bisogni dei nostri pazienti e dai riferimenti teorici di come avviene l'apprendimento e il riapprendimento in condizioni patologiche e questo è un vero salto qualitativo e devo dire che forse l'Italia rispetto ad altre nazioni europee sulle tecnologie robotiche è abbastanza fra le prime posizioni vorrei concludere segnalando i problemi perché sono quelli in cui io sono qui oggi sposo il manifesto ma chiedo aiuto nel senso che per la riabilitazione italiana e direi per la neuro-riabilitazione in particolare che secondo me è la parte più forte della riabilitazione siamo in un anno particolarmente delicato un anno di sperimentazione siamo alle prese con un DM 70 e 77 che sta rimodulando ad esempio a partire dalla gestione della scheda di dimissione ospedaliera che arriverà dall'anno prossimo a stabilire i criteri di appropriatezza i limiti di intervento la possibilità di immobilità del paziente in funzione dei suoi bisogni e delle specialità che può trovare in giro per l'Italia e poi abbiamo da vedere quale sarà la presenza dei medici e del personale riabilitativo per quanto riguarda le strutture territoriali ecco in tutto ciò ci giochiamo il futuro dei prossimi anni della riabilitazione e lasciatemi dire della nostra salute perché noi saremo anche più o meno sempre utenti della riabilitazione quindi per tutto questo io chiamo ad aiutarci le altre società che sono qua oggi presente anche perché ci sono dei nuovi settori che richiedono ulteriori risorse uno per tutti vi faccio l'esempio della riabilitazione in neurooncologia questo è un settore in grande sviluppo in virtù dell'evoluzione della medicina abbiamo sempre più ampie richieste di interventi riabilitativi complessi per questo tipo di pazienti tutto questo richiede competenze e risorse grazie grazie venga pure a mettere la firma grazie mille non c'è dubbio che la riabilitazione motoria la SIRN è parte integrante di tutti i percorsi assistenziali e multidisciplinari e quindi credo che il ruolo della vostra società sarà importantissimo nell'ottica del manifesto che stiamo portando avanti assolutamente grazie dunque un'altra parte fondamentale importantissima a mio giudizio possono farle i medici di medicina generale chiamo il responsabile scientifico della federazione italiana Walter Marrocco benvenuto firmo sicuramente vengo subito allora medico medicina generale credo che i punti di contatto con voi su queste tematiche siano tanti quindi la firma è garantita anche ovviamente proprio per questo ci sono molti punti di contatto ma sono punti di unione per esempio l'aspetto epidemiologico mentre noi parliamo nei nostri studi negli studi dei medici di medicina generale in Italia sono transitati o stanno transitando voi fisicamente voi su visite domiciliari o contatti telefonici circa un milione e mezzo di cittadini è chiaro che tutto questo significa che dentro abbiamo una grossa percentuale di pazienti che hanno problematiche di tipo neurologiche organiche o funzionali e e questo ovviamente significa anche che noi poi dobbiamo modulare il nostro modello di lavoro perché nella relazione si sviluppa molto di quello che è l'aspetto diagnostico se vogliamo anche terapeutico in modo embrionale nelle prime fasi di contatto col paziente che poi si possono sviluppare meglio in ambito specialistico ma tutto questo significa che su un milione e mezzo di pazienti io credo che una gran parte si trascini dietro a problematiche di cui noi dobbiamo tener conto un interesse all'approccio clinico ovviamente un approccio clinico sia organico che funzionale ma anche sociale è stato sottolineato bene prima quindi un approccio olistico di un paziente che con le sue problematiche non ha soltanto delle degli aspetti meramente clinici ma anche degli aspetti che vanno a incidere sulla relazione sulla sua vita sociale e questo significa anche che è molto importante conoscere il contesto socio familiare in cui il paziente vive questo devo dire che è molto più congeniale al medio vicino generale che all'ambito specialistico se non altro perché noi conosciamo la casa conosciamo i figli che sono cresciuti eccetera e questo credo che sia un punto di contatto che andrebbe valorizzato in aiuto anche della vostra attività altri altri punti sono l'ambito della prevenzione e della cura ho sentito con piacere parlare di questa nuova visione tra virgolette nuova visione ma forse una visione qui si vuole dare più impulso proprio della prevenzione siamo abituati a correre dietro ai buoi che sono usciti dalla stalla in realtà fare un'azione preventiva è sicuramente utile perché certi segni sono molto molto anticipati rispetto a quello che è lo sviluppo poi della patologia e quindi diciamo anche che a questo punto è necessario sviluppare le interazioni con le altre figure sanitarie in particolare fra il medio di famiglia lo specialista ma anche le altre figure che deve essere un'interazione oggi come oggi si parla molto di case di comunità di altre progettualità ma in realtà io credo che noi crediamo che la prima interazione deve essere funzionale non tanto esclusivamente fisica però ci vuole un punto di contatto perché le relazioni tra noi e gli specialisti troppo spesso si realizzano in funzione della conoscenza diretta dell'amicizia cioè manca una strutturazione e questo credo che sia mancante e da ultimo anche un'interazione che preveda un processo di formazione prima è stato molto in modo molto interessante detto pensiamo anche alla formazione ecco una formazione non solo e tanto sui contenuti di natura culturale scientifica ma anche di natura operativa funzionale cioè di come poter dialogare insieme e da ultimo ma non da ultimo l'utilizzo condiviso dei dati signori noi siamo l'unico paese in Europa che ha una forza ha una ricchezza di dati che vengono comunque dalla medicina del territorio che non c'è così sviluppata come in Italia medicina del territorio parlo in primis della medicina generale ma anche della specialistica territoriale sia ben chiaro ecco io credo che questo bene noi lo stiamo totalmente o in gran parte ancora disperdendo grazie a voi grazie mille grazie la firma grazie mille firmo firmo e poi ve ne andate credo che il ruolo della medicina generale della medicina di base sia fondamentale nel uno dei primi atti di questo di questo manifesto che è quello della prevenzione quindi ma è non solo quindi credo che il vostro ruolo sarà fondamentale grazie grazie come anche quello sicuramente delle professioni infermieristiche allora chiamo Maurizio Zega comitato centrale federazione nazionale ordini professioni infermieristiche FNOPI e benvenuto grazie 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 per questa occasione è un piacere per noi vi porto i saluti della dottoressa Mangia Cavalli la presidente nazionale che dire siamo molto contenti del documento e della dimensione olistica finalmente riconosciuta al paziente noi lo abbiamo all'interno del nostro codice deontologico da sempre la dimensione olistica quindi vedere che diciamo anche la professione medica si orienta verso questa dimensione e quindi si distacca dalla dimensione esclusivamente biologica voglio dire ci fa molto piacere ho sentito due aspetti che mi sono particolarmente mi hanno particolarmente colpito e sui quali appunto vorrei dare il contributo uno è quello della dimensione della risposta territoriale allora il modello penso che ormai sia definito il DM77 ha definito diciamo quella che deve essere e sarà per il futuro la risposta territoriale la cosa che ci dobbiamo domandare è se il problema sono le strutture come le casse della comunità gli ospedali comunità le figure come l'infermiere di famiglia e comunità o se invece il problema non sia culturale e in questa sede più che mai mi viene in mente di dire Basaglia Docet cioè quando lui diceva che gli maniconi dovevano essere chiusi voglio dire era solo se non solo era erano in pochi a pensarlo quindi un qualcosa di diverso è possibile dobbiamo soltanto crederci questa è la prima dimensione che si allaccia poi alla dimensione della continuità delle cure molto ben espressa all'interno del documento dove però bisogna che ci mettiamo d'accordo non è lineare la continuità delle cure la continuità delle cure è circolare e il diametro dipende dalla capacità della interazione di tutte le professioni come è stato ben detto qui dal dottor De Tanti da tutte le professioni che intervengono perché una volta che il paziente è inquadrato da un punto di vista diagnostico e terapeutico ci sono delle altre professioni che intervengono per far sì che quello che è stato l'inquadramento continui è che si creano le condizioni dell'alert nel momento in cui queste condizioni variano perché ricordiamoci la dimensione territoriale soprattutto domiciliare è un aspetto conservativo per la fragilità del soggetto ma anche per il sistema rende il sistema sostenibile da un punto di vista economico noi avremo tra 15 anni un aumento di 14 milioni degli ultra 65 anni la piramide sociale sarà completamente rovesciata e quindi lo tsunami che abbiamo adesso addosso voglio dire niente rispetto a quello che ci arriverà domani l'altro aspetto è quello della formazione d'altronde noi oggi già realizziamo dei documenti insieme tra più profissioni ad esempio il PAI il piano di assistenza individuale quando il paziente viene dimesso va nel territorio viene fatto il PAI magari anche già in ospedale viene effettuato e ci partecipano più professionisti lo specialista che dimette il medico di medicina generale l'infermiere del territorio perché? perché la risposta deve essere in team ora signori mi dite una cosa ma voi vi immaginate una qualsiasi nazionale di sport che riesca a giocare una partita senza mai essersi allenata insieme cioè noi abbiamo delle professioni che si formano in maniera silos non facciamo mai niente nella formazione universitaria insieme come possiamo pensare di poter domani effettuare un lavoro di squadra se non siamo stati abituati nella preparazione a fare un lavoro di squadra ecco io penso che questo voglio dire ci aiuterà ad affrontare meglio e sono d'accordo ancora una volta con il dottor De Tanti perché voglio dire anche la mia barba e i miei capelli non sono tinti insomma sono del colore naturale quindi probabilmente anche io avrò bisogno di assistenza domiciliare grazie a tutti grazie a lei anche a lei chiediamo la firma di qua io personalmente firmerei però non è stato cioè nell'invito non era scritto il titolo personale e poi farlo ma sì ma sia tranquillo garantisco io ora siamo tranquilli esatto non si esponga eccessivamente però no ma mi piace talmente tanto questo allora professore vuole aggiungere qualcosa è molto interessante non c'è un altro no certo che c'è vogliamo chiudere poi facciamo una sintesi finale che dice ma sì io direi che sì sì ascoltiamo l'ultima poi dopo magari facciamo una chiusura va bene allora chiamiamo a podio il vicepresidente vicario di Federfarma Alfredo Procaccini che è l'ultimo dei nostri interventi l'ultimo relatore di questo panel molto ricco davvero e benvenuto e poi facciamo una una chiusura con dei key message sì buonasera ringrazio ringrazio l'onorevole patriarca per aver fortemente voluto questo convegno il presidente Alessandro Padovani per averci invitato io rappresento le 20.000 farmacie presenti sul territorio italiano e credo che la farmacia sia evoluta in questi ultimi anni siamo passati da una farmacia dispensatrice di farmaci ad una farmacia di prevenzione pensiamo ai vaccini durante il covid e ora siamo a quella che è la farmacia diciamo dei servizi e possiamo dire la farmacia di relazione in questo momento quindi sicuramente una farmacia che può fare la sua parte nei confronti del paziente cronico in queste patologie degenerative io mi trovo perfettamente concordi con il manifesto che avete promosso in questo evento in particolare i punti 5 e 6 sono proprio i punti strategici quello che è lo screening quello che è le strategie di promozione la prevenzione delle malattie e soprattutto quello che deve essere la formazione anche del caregiver in tutto questo la farmacia può dare una forte mano perché siamo strutture prossimali e centrali nel sistema sanitario nazionale ma soprattutto capillare sul territorio quindi una farmacia sempre a disposizione sempre aperta 365 giorni l'anno festivi in qualsiasi momento e crediamo che un altro degli elementi fondamentali sia proprio quello di mettere non solo il paziente al centro al centro della catena del servizio nazionale ma soprattutto ricordarsi che un elemento fondamentale del quale ancora non ho sentito parlare è l'adesione all'aderenza alla terapia noi sappiamo come e quanto specialmente il paziente cronico non sempre segue con attenzione alla terapia un elemento questo fondamentale per far sì invece che la cura sia il più possibile funzionale alla terapia e quindi siamo sicuri che anche in questo campo le farmacie potrebbero dare una grossa mano quindi quello che è tutto sommato l'elemento fondamentale quindi la farmacia sul territorio ma seguire con attenzione il paziente con l'aderenza alla terapia e il caregiver che darà una forte mano ovviamente per la somministrazione del farmaco io vi ringrazio per averci invitati e buon lavoro grazie anche per lei la firma ecco qui io vorrei ringraziare tutti tutti i partecipanti che hanno tutti espresso grande entusiasmo questa iniziativa della società italiana di neurologia portata avanti con molto vigore da Alessandro Padovani emerge sicuramente il fatto e il dato che è necessario che ci sia il contributo delle varie discipline per la prevenzione la cura la diagnosi per tutta l'idea della salute del cervello quindi questo è il primo punto il primo messaggio seconda cosa mi sembra di capire anche che io ho colto anche delle difficoltà delle singole discipline nell'assolvere i propri compiti e penso che attraverso un'azione di collaborazione con le società affini come insomma sono molte delle società che stasera hanno partecipato a questa tavola rotonda potrà contribuire potrà probabilmente aiutare a superare delle difficoltà penso che rivolgendomi ad Alessandro Padovani credo che dopo che il passo successivo a questa accettazione generale adesso è quello di creare poi un tavolo tecnico di tutte le società scientifiche e che cominciino poi a parlare a traslare queste ipotesi tutte queste ideologie in fatti concreti quindi io sono molto contento di aver moderato con lei questa sessione io la ringrazio molto professore davvero per la cura che ha avuto siamo puntuali a questo terzo blocco sono quasi tre ore che siamo insieme ma vedo ancora una platea molto attenta evidentemente molto interessata e questa è una parte fondamentale quella di cui ci occupiamo adesso l'impatto sociale delle patologie del cervello perché voglio dire che si tratti della malattia di Alzheimer piuttosto che di una depressione parliamo di malattie che hanno un fortissimo impatto sulla qualità della vita sì del paziente ma anche di chi vive accanto ai pazienti quindi le famiglie e di caregiver e sono ovviamente delle considerazioni importanti queste che vanno che vanno fatte allora l'impatto sociale delle patologie del cervello il ruolo delle associazioni dei pazienti del terzo settore della famiglia dei caregiver diamo il via a questa ultima parte accanto a me il professor Mario Zappia che è presidente eletto della società italiana di neurologia quindi il passato il presente ed il futuro prego si accomodi qui e andiamo ad iniziare a questo panel dando proprio spazio ed ascolto a chi rappresenta i pazienti ieri ero ad un altro evento e mi è molto piaciuto l'intervento di un decisore di un politico che ha detto noi molto spesso cioè non siamo medici abbiamo bisogno di capire e che ci vengano portati sotto gli occhi le criticità ovviamente ecco noi credo che stiamo rappresentando tutte le parti e quindi ci avviamo dopo una sua introduzione professore al successivo panel sì è vero grazie buonasera a tutti e anche io ringrazio tantissimo Alessandro Padovani e Matilde Leonardi per avere avviato questa iniziativa importantissima il successo di stasera dato dalla presenza di tante figure istituzionali secondo me è il raggiungimento di un traguardo importante ma come tutti i traguardi è anche il punto di partenza che dovrà essere portato avanti nei sette anni che seguiranno fino al duemilatrentuno e questa questa parte è riservata a una delle sei p dei soggetti che appunto erano stati indicati nel nostro manifesto come attori del cambiamento che dovremo affrontare questa sesta P è quella dei partners quindi abbiamo le associazioni dei pazienti abbiamo il terzo settore e le famiglie dei pazienti e i loro caregiver sono punti altrettanto importanti le associazioni dei pazienti sono il pungolo che ci danno la spinta per cercare di migliorare le nostre le nostre prassi spesso tra associazioni di pazienti e società scientifiche si stabiliscono delle vere proprie alleanze ma mantenendo ognuno la propria prospettiva il proprio punto di vista e dall'incontro tra questi punti di vista che spesso si riescono ad avere i risultati migliori stasera avremo quattro associazioni di pazienti e ognuna di queste rappresenta non solo realtà differenti ma anche modalità differenti per affrontare quello che è l'associazionismo dei pazienti infatti ci troveremo ad affrontare realtà diverse realtà dove l'associazione è costituita prevalentemente da persone in giovane età e che quindi hanno una spinta propulsiva molto importante nelle varie proposte che vengono poi portate avanti e altre associazioni dove invece questa spinta propulsiva deve essere come dire ulteriormente spinta spesso noi medici probabilmente in modo improprio ci facciamo portatori di determinate esigenze ma credetemi come vedremo queste realtà sono le realtà che poi ci permetteranno di realizzare qualora ci dovessimo riuscire quello che il manifesto si propone il terzo settore è una condizione che è assolutamente emergente abbiamo sentito più volte stasera la parola sostenibilità in un sistema come il nostro che richiede sempre maggiori risorse in realtà il terzo settore può svolgere un ruolo importantissimo con l'acquisizione di risorse che sono sempre più necessarie per portare avanti la possibilità di recuperare risorse che spesso il sistema istituzionale pubblico non riesce a mettere a disposizione e infine il grande tema delle famiglie e dei caregiver prima l'onorevole Benigni ha accennato che in Italia abbiamo circa 3 milioni di caregiver le necessità di queste persone spesso non riescono a essere evidenziate compiutamente spesso queste persone lavorano nell'ombra e le istituzioni bene o male dovranno farsi carico di questa condizione in Italia abbiamo una legge del 2017 in cui veniva finalmente riconosciuto il ruolo del caregiver familiare non del caregiver professionale questa legge dotava con forse una dotazione risibile di 20 milioni l'anno poi portati a 25 milioni l'anno per i tre anni successivi la possibilità di fare degli interventi a favore dei caregiver attualmente giacciono due disegni di legge in Parlamento uno presso la Camera dei Deputati e uno presso il Senato per rivedere e dare dei supporti importanti anche dal punto di vista normativo a queste figure dei caregiver speriamo che le istituzioni si riescano a fare davvero parte diligente di questa importantissima realtà e che possa dare un sostegno alle tante famiglie che oggi spesso si trovano ad agire nell'ombra spero di non avere preso troppo tempo diamo la parola alle persone che invece potranno intervenire il primo ad intervenire è il consigliere della Società Italiana di Neurologia Paolo Calabresi grazie mi unisco al ringraziamento di tutti per il professor Padovani per la SIN per aver organizzato insieme alle associazioni questo importante evento in fondo l'elefante nella stanza questa sera a fronte di tutti gli interventi è la sostenibilità economica quanto abbiamo chiesto molti di noi è qualcosa che è importante ma è difficilmente sostenibile e allora abbiamo da italiani una necessità importante quella che spesso abbiamo messo in atto quella di essere cioè creativi è vero che con la creatività non si risolvono tutti i problemi ma è un aspetto importante l'altro importante aspetto è l'educazione che cosa possiamo fare noi il mio punto di vista è quello di un neurologo che dirige una struttura come il gemelli importante e con diverse risorse che può guardare all'aspetto dei pazienti sotto diverse angolazioni noi abbiamo pazienti con stroke abbiamo pazienti con gravi malattie neurodegenerative l'alzheimer la malattia di parkinson e le malattie rare che sono un'altra componente importante apparentemente ridotta ma fondamentale e spesso completamente misconosciuta soprattutto nelle realtà che non sono centrali ma sono periferiche e allora la risorsa che abbiamo importante noi è quella di poter educare le persone cioè che cosa ci chiedono i pazienti quando vengono in ambulatorio professore dottore ma qual è la prossima terapia oltre alla levodopa per la mia malattia di parkinson a che cosa posso sperare e allora noi dobbiamo dare una risposta rispetto a questo non possiamo girare la testa dall'altra parte e dire che domani forse arriveranno gli anticorpi monoclonali che risolveranno tante cose e allora la prima cosa che dobbiamo dire proprio nell'ambito della creatività e nell'approccio olistico che abbiamo utilizzato è qualcosa che spesso non è farmacologico un recentemente non più di tre settimane fa mi sono trovato a fare il consulta in una grande azienda farmaceutica e allora mi ha chiesto ma qual è la prospettiva per più importante secondo lei nella fase precoce della malattia di parkinson e la mia risposta è stata una terapia non farmacologica l'attività motoria l'attività motoria è in grado di modificare nel cervello e questo lo abbiamo dimostrato noi e tanti altri ricercatori le molecole cerebrali non è un'attività motoria che dà un supporto muscolare è qualche cosa che riesce a modificare le molecole nel cervello modifica le neurotrofine modifica i neurotrasmettitori e allora noi questo tipo di messaggio dobbiamo essere in grado di trasmetterlo ai pazienti ai familiari dei pazienti e dire guarda io ti do una serie di farmaci ma in fondo ti spiego perché la tua attività motoria oppure nella malattia di alzheimer il tuo non essere solo sia importante lo spieghi anche guardando i familiari e trovando una soluzione a questi problemi con approcci che molto spesso non sono approcci farmacologici ed è una visione rispetto alla quale molto spesso noi ci dimentichiamo anche perché i tempi sono stretti non abbiamo il tempo di spiegare tutte le cose quindi è facile scrivere una ricetta ma è più complicato spiegare a quel paziente a quel familiare che compiere quella determinata attività fisica interagire socialmente o anche mangiare bene è fondamentale l'altro punto è chi veicola questo messaggio in Italia chi sarà come in Europa a veicolare questo messaggio e questi sono i grandi protagonisti di questa apparente e sostanziale rivoluzione sono i nostri giovani noi neurologi abbiamo formato un gruppo di giovani importanti abbiamo dei ricercatori anche di base fondamentali e bravi purtroppo assistiamo soprattutto per la ricerca preclinica a tanti giovani che vanno fuori ma anche molti dei giovani clinici nostri dei nostri giovani neurologi vanno all'estero a cercare condizioni migliori e noi questi giovani che sono una risorsa fondamentale non solo per la ricerca non solo per la clinica ma anche per veicolare un nuovo messaggio un nuovo modo di parlare in modo piano semplice ai pazienti e noi dobbiamo con loro educare e completare questo lavoro con le associazioni dei pazienti allora quello che io credo sarà fondamentale sarà trovare le risorse come dicevi tu Mario anche con i donatori purtroppo in Italia non è il sistema anglosasseno è meglio americano dove i donatori è facile di averli è più difficile però questa grande operazione noi la dobbiamo fare e la dobbiamo fare soprattutto in questa sede dove Alessandro ci hai portato con prestigio questa sera ma dobbiamo essere in grado come hai fatto tu come abbiamo fatto noi anche con i decisori politici di parlare un linguaggio molto semplice e che convinca questo e al di là dell'evento rispettare poi quelle che sono le scadenze quello che è più difficile avere anche con le associazioni dei pazienti quindi fare in modo che questo grande messaggio di speranza riesca a concludersi con concretezza come diceva qualcuno ma anche con cose fatte e io sono convinto che se andiamo avanti in questo modo potremmo avere dei risultati concreti grazie 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 moltissimo e se non vuole dire niente nulla professore sono d'accordo con quanto il professor Calabresi ci ha detto anche perché in questa prospettiva il medico non diventa colui che cesse il suo operato nella cura del paziente ma il medico ha dei ruoli sociali estremamente importanti e d'altronde un'occasione come quella di stasera dove è la società italiana di neurologia quindi una società di medici di specialisti che propone alle istituzioni come affrontare il prossimo futuro è secondo me uno dei dei compiti importanti cui noi dobbiamo assolvere quindi assolutamente d'accordo con quanto dice il professor Calabresi credo anche nel ruolo che i giovani devono avere la società italiana di neurologia è una società composta per circa un terzo da giovani da persone che hanno meno di 35 anni questa è la nostra risorsa e il futuro che secondo me ci permette di guardare anche con fiducia a quello che avremo di nanzi a noi la ringrazio ed invito la presidente dell'International Bureau for Epilepsy Francesca Sofia benvenuta grazie e buonasera a tutti e ringrazio la SIN per l'invito e per questa splendida opportunità mi sono segnata un po' di cose quindi ho deciso di destrutturare completamente il mio intervento e di partire dal significato di questo panel che riguarda appunto il ruolo dei pazienti delle famiglie e delle associazioni dei pazienti sostanzialmente riguarda l'importanza di una alleanza fra stakeholder e portatori di interesse diversi ma accomunati dallo stesso obiettivo che è quello di produrre una migliore qualità di vita per tutti migliore salute per tutti ed è questo quello che sta accadendo oggi stiamo celebrando e suggellando un'alleanza vedete io ho partecipato negli ultimi anni della mia vita come rappresentante delle persone con epilessia ad un'intensa attività di advocacy internazionale istituzionale che ha portato nel 2022 all'approvazione del piano globale intersettoriale decennale sull'epilessia e le altre malattie neurologiche io ho partecipato a quegli eventi decisivi che hanno determinato l'approvazione da parte dei 194 stati membri che formano l'assemblea mondiale della salute ed ero il rappresentante di una comunità che da decenni secoli forse millenni è stata dimenticata ed isolata la comunità delle persone con epilessia quella stessa comunità che a un certo punto con grande generosità e lungimiranza ha capito che una soluzione per le persone con epilessia non sarebbe potuta arrivare se al contempo non fossero arrivate soluzioni per tutte le persone affette da malattie neurologiche l'importanza di questo piano che oggi celebriamo intorno al quale suggeriamo un'alleanza del mondo della neurologia sta proprio in questo non arriveranno soluzioni singole ma le soluzioni e l'innovazione per le patologie del cervello si faranno alla intersezione all'intersezione tra bisogni esperienze e competenze diverse ecco io vorrei sottolineare come la comunità dell'epilessia abbia avuto per prima permettetemi la lungimiranza di dire che andava superata una forma di frammentazione che ci avrebbe condotto all'insuccesso e oggi sta accadendo questo sostanzialmente grazie alla SIN la SIN ha messo insieme tutte le competenze necessarie per la cura e tutte le rappresentanze del mondo dell'associazionismo del mondo laico di rappresentanza delle comunità dei pazienti in un'ottica di in una logica di reale rete condivisione che superi quella frammentazione che ci separa dal raggiungimento dell'obiettivo ecco si è parlato molto di centralità del paziente in tutto questo io vorrei invitarvi a non parlarne più non parliamo più del paziente al centro parliamo del paziente come il nostro migliore alleato nella costruzione di questo percorso perché guardate io sono anche la mamma di una ragazzina che soffre di epilessia mia figlia soffre di un'epilessia penserete tutti che si tratta di una malattia molto diffusa 50 milioni di persone l'epilessia è una malattia diffusa ma è anche un universo di malattie rare mia figlia è una di poche decine nel mondo il suo gene è stato identificato recentemente sono una malattia rara sono una malattia complessa sono una malattia diffusa sono una malattia neurologica ma è accompagnata da tante disabilità e comorbidità sono una patologia ma sono anche un'etichetta sociale perché ho l'epilessia e quindi non posso partecipare alla gita scolastica l'epilessia è un entry point quante patologie neurologiche rappresentate da altri come me in questa sala vivono questa stessa condizione quante patologie neurologiche hanno tra i loro sintomi crisi epilettiche vedete dobbiamo trovare quel terreno comune e questo è secondo me il grande stimolo che ci dà oggi la SIN trovare quel terreno comune per promuovere condizioni di vita e una salute migliore per tutti grazie grazie a lei la firma la firma venga presidente volevo solamente venga a mettere la firma anche il dottor Pesce che è rappresentante di un'associazione il quale inviterà l'interesse a firmare e io sono felice che anche Aice firmi il documento dottor Pesce grazie venga 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 di qua venga a firmare anche lei può aggiungere qui nome cognome presidente Aice così è molto è molto importante questo e l'intervento della presidente Sofia ci fa agganciare molto bene a quello successivo perché stavo riguardando un po' di dati alcune dichiarazioni nell'ottanta per cento dei casi le malattie rare sono di origine genetica e inoltre la metà dei casi colpiscono il sistema nervoso centrale e periferico quindi il neurologo è un interlocutore fondamentale nel campo delle malattie rare è per questo che invitiamo a parlare la presidente della federazione italiana malattie rare uniamo Annalisa Scopinaro grazie mille per questo invito e grazie anche per la ricchezza degli interventi che mi hanno preceduta che hanno costruito un puzzle intorno alla figura della persona che soffre di disturbi mentali disturbi neurologici e quant'altro e do ragione a Francesca Sofia quando dice non mettiamo il paziente al centro ma mettiamolo insieme a definire questo puzzle perché la persona che ha una patologia non può non essere vista nella sua interezza e il fatto che oggi qui ci siano così tante società scientifiche che fanno pensare a quell'integrazione che uniamo persegue da 25 anni ormai perché quest'anno facciamo i 25 anni è fondamentale fondamentale perché quello che abbiamo sempre visto nella nostra vita è stato quello di essere visti a pezzetti di essere visti a silos e i silos riguardano sia la propria salute che poi anche gli altri aspetti della vita che vanno dalla parte sociale alla parte ricreativa alla parte del lavoro e così via la persona è una è unica e come tale va vista e come tale se non riusciamo a fare noi l'integrazione sulla sua persona ma ragionando insieme fra società scientifiche associazioni di pazienti ministero della salute parlamentari per la parte politica tutti gli stakeholder di sistema credo che arriveremo poco lontano ma oggi credo che sono stati messi dei semi molto importanti e mi piace questo fermento che c'è ringrazio il professor Padovani per questa organizzazione per questo pensiero con tutti i suoi collaboratori e chi ha collaborato con lui in questa ideazione Euroordis ha sottolineato molto bene quello che significa salute mentale per le persone con malattia rara facendo prima di tutto un'indagine già dal 2017 indagando questi aspetti nelle persone con malattia rara che spesso appunto siccome hanno la malattia rara non si va a indagare su comorbidità e non si va a vedere anche come l'impatto della malattia rara influisca sulla famiglia e sul caregiver di cui abbiamo nominato più volte la figura durante questa lunga giornata e quindi ha lanciato questa survey dove ha visto che c'è un impatto fortissimo sia a livello individuale e quindi della singola persona sia a livello di popolazione dove l'impatto sulla salute mentale è crescente via via che si avanza nel percorso del il cosiddetto passion journey a livello generale l'85% delle persone con malattia rara dichiara che la malattia rara impatta sulla loro salute mentale 85% oltre quelli che già sappiamo che hanno comunque comorbidità legate alla neurologia e inoltre le persone con malattia rara hanno tre volte in più la possibilità di essere ammalate di depressione e in generale di spleen quello che si chiama spleen quindi sono dati che fanno impressione quindi parlare di malattie rare e salute mentale non sono due cose che sono distinte ma sono cose assolutamente correlate molto dobbiamo anche allo stigma che ancora accompagna la malattia mentale cioè il fatto che non ci sia un riconoscimento e soprattutto che non ci sia un riconoscimento quando è associata anche alla disabilità intellettiva perché si dà la responsabilità alla disabilità intellettiva e non si pensa che invece ci possono essere cause di cui la disabilità intellettiva è causa scatenante ma che non è la stessa cosa e chi parla un medichese meglio del mio ha già capito cosa intendo nel processo che abbiamo fatto poi successivo del Rare 2030 dandoci degli obiettivi da raggiungere entro il 2030 la comunità delle persone con malattie rare e tutti gli stakeholder interessati insieme hanno identificato proprio come priorità la necessità di indagare i sintomi di problematiche di salute mentale nelle malattie rare e quindi sia nelle persone che nelle loro famiglie e implementare azioni concrete per far fronte all'impatto psicologico che ne deriva e di conseguenza Eurordis si è messo di fronte tre obiettivi che coincidono moltissimo anche su quelli che ci siamo detti oggi prevenzione implementazione e facilitazione all'accesso alle cure rinforzare la risposta delle istituzioni e la capacità dei professionisti anche per capire le sovrapposizioni e le intersezioni fra malattia rara e malattia mentale le azioni network e coinvolgimento sembra quasi di ripercorrere la strada di oggi pomeriggio e la generazione di evidenze i dati sono importanti ne abbiamo parlato tanto abbiamo detto anche come i dati abbiano difficoltà a essere diffusi abbiamo anche accennato oggi pomeriggio scusate mi sembra stamattina ma in realtà è solo oggi pomeriggio che è da molto che siamo qui esatto è stato molto intenso devo dire molto profondo e molto intenso la generazione di evidenze e il garante della privacy ne abbiamo parlato l'uso secondario dei dati in sanità la raccolta di buone pratiche ci sono magari già sviluppate buone pratiche che possono essere utilmente usate la consapevolezza di tutto questo e la comunicazione che ne dobbiamo fare come nella giornata di oggi e la gestione e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder queste sono tutte cose che Eurordis ha nel suo manifesto che io metto a disposizione esattamente come tutti gli altri hanno messo a disposizione la loro esperienza e il loro lungo percorso in queste tematiche e aggiungo la problematica della transizione fra età pediatrica ed adulta è già stata sottolineata in più di un'occasione per noi è un dramma specialmente passare dal neuropsichiatra infrantile al nulla nulla proprio nulla e quindi abbiamo bambini che sono in realtà adulti 25 27 30 anni che permangono negli ospedali pediatrici perché non ci sono soluzioni alternative so che molto altro dopo di me dirà Mario Battaglia che ha preso una marea di appunti e quindi chiudo qui il mio discorso firmando il manifesto prima che mi venga chiesto e ringraziando davvero tutti per questa attiva partecipazione io sono molto felice di essere qui oggi e di poter partecipare a tutte le successive fasi di queste coalizioni grazie grazie mille io vorrei dire una cosa soprattutto riguardo l'ultimo punto che è stato trattato e cioè il dramma che si apre quando c'è il passaggio tra il neuropsichiatra infantile e il nulla come dice la rappresentante di Uniamo mi ricollego anche a quello che ha detto il rappresentante della della società di infermieristica e cioè che nel momento in cui si decide di affrontare insieme un problema si deve crescere insieme perché solo crescendo insieme noi siamo in grado di garantire quegli snodi quei punti di difficoltà che ancora oggi abbiamo e ad esempio la possibilità di fare avere una transizione la più come dire nel modo più facile possibile alla persona che affronta la vita adulta e che non ha più il riferimento del neuropsichiatra infantile è uno dei punti che assolutamente devono essere considerati grazie ci avviamo alla parte conclusiva abbiamo ancora circa 12 minuti e 3 interventi chiamo il direttore generale della fondazione AISM l'associazione italiana di sclerosi multipla Mario Alberto Battaglia e benvenuto buonasera a tutti ovviamente i 12 minuti creano ansia di prestazione e secondo lei io non l'ho fatto apposta cerchiamo di essere sintetici grazie dell'invito Alessandro Padovani a tutta la SIN ovviamente non sto a parlare di AISM visto che rappresento la sclerosi multipla quindi della carta dei diritti dell'agenda 2025 del barometro delle cose che facciamo voglio solo sottolineare un aspetto che è importante per noi associazioni ed è stato anche toccato poco fa e cioè l'importanza di lavorare su tavoli internazionali questo lo dico perché noi abbiamo una federazione internazionale abbiamo una piattaforma europea abbiamo lavorato con l'European Brain Council e credo che questo sia importante perché dobbiamo avere la capacità di non solo di sederci ai tavoli internazionali ma anche di leggere insieme diciamo le nostre azioni nazionali con i percorsi internazionali quindi credo che un esercizio importante sia quello di leggere il manifesto di cui oggi parliamo insieme al documento internazionale cioè questo documento che è come tanti documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con cui si lavora un Global Action Plan mi è piaciuto molto l'intervento di poco fa anche io sto destrutturando un po' gli appunti come diceva la nostra collega prima perché bisogna avere la capacità di capire che non possiamo lavorare da soli e questo lo devono fare e lo dico fermamente le associazioni per prime perché le associazioni sono quelle non solo i medici delle varie professionalità ma sono le associazioni le prime che fanno fatica a lavorare insieme invece capire l'importanza della capacità di lavorare insieme è fondamentale noi lo facciamo come Aism da sempre però non tutte le associazioni lo fanno tornando alla parola intersectorial che si citava prima io credo che il messaggio sia non solo intersectoriale ma che sia il coinvolgimento di tutti gli stakeholder che questo è un messaggio preciso nel documento e questo quando si cita questo aspetto vuol dire coinvolgere non solo tutti gli attori del sistema ma anche le associazioni che sono non un colibri ma sono stormi e stormi e stormi di colibri come dicevi per riferirmi alle tue parole Matilde ora io perché dico questo perché noi possiamo fare moltissimo stimolando anche le istituzioni nel lontano 22 perché sembra vicino ma in realtà è lontano una serie di associazioni tra cui la nostra l'Anfas l'Aice appena firmato a Giovanni Battista Pesce il documento la stessa Fisce che è la federazione dell'attività di superamento dell'handicap che c'è dal 94 io sono stato il primo presidente ha chiesto che ci fosse un tavolo istituzionale che cominciasse a lavorare ma non solo con le associazioni con tutti gli attori del sistema su questo programma su questo action plan che era stato proposto però questo non è ancora successo e quindi questo è importante che lo sottolineiamo ovviamente che cosa dobbiamo dire alle istituzioni che il primo punto di quel famoso action plan parla di advocacy e ne parla in più in più punti e dice di ingaggiare tutti gli stakeholder quindi l'istituzione perché lì è member states deve come prima azione portare a un tavolo comune è stato detto poco fa tutti gli attori del sistema comprese le associazioni che hanno un ruolo importante anche perché le associazioni tante volte vengono prese con un'ottica di chi nemmeno si siede al tavolo ma di chi è rivendicativo no le associazioni sono propositive si siedono al tavolo e propongono le soluzioni alle istituzioni e a tutti gli altri stakeholder ovviamente ognuno con il suo ruolo in questo il discorso della persona che al centro che nemmeno io voglio mai sentire più è il concetto che noi sottolineiamo sempre come associazioni è la persona al tavolo ovviamente la persona e l'associazione che la rappresenta questo lo dico perché poi anche nel documento si fa una distinzione tra chi genera evidenze chi formula le policies chi dà assistenza e forse ognuno degli stakeholder fa tutte queste cose insieme ed è stato sottolineato appena un istante fa il ruolo sociale che può avere il neurologo ora ci sono tantissime parole se prendiamo il documento il manifesto di cui stiamo parlando e il documento internazionale ci sono tantissime parole che dobbiamo prendere una per una e che in realtà avete già citato però voglio ricordare alcune cose la prima è il discorso della prevenzione perché per molte malattie oggi si può lavorare in ottica di prevenzione primaria secondaria terziaria l'abbiamo sempre detto per la schiosi multipla si dice addirittura di arrivare a diagnosticarla prima di quando la si diagnostica oggi per intervenire precocemente ovviamente cambiano le cose però è importante tutto questo ovviamente nella prevenzione terziaria ci sono mille parole che dovremmo ricordare a parte l'approccio olistico è stato sottolineato l'ospedale territorio l'integrazione sociosanitaria l'equità di accesso i percorsi diagnostici i farmaci ci sono cose sulle quali potremmo soffermarci un po' di più il discorso di accesso ai farmaci oggi non è proprio una cosa così semplice nel nostro paese e invece è fondamentale per quella prevenzione secondaria o terziaria che vorremmo portare avanti così come c'è tutto il discorso dei percorsi assistenziali che non dobbiamo dimenticarci perché parliamo di PDTA parliamo di piano della cronicità PDTA monitoraggio nuovo sistema di garanzia poi gli indicatori non li mettiamo e giustamente invece c'è un lavoro da fare parliamo di aspetti adesso citavo prima i farmaci non voglio dimenticare che sederci ai tavoli dell'AIFA non solo come società scientifica cosa che ogni tanto non viene fatta ma anche come associazione è uno dei temi fondamentali così come la parola caregiver che avete citato non lo sottolineo però credo che ci siano delle key actions come dice il documento che dobbiamo fare e mettere in atto volevo accennare al discorso dei dati sanitari che mi ero scritto prima di cominciare ad ascoltare tutti voi che è un discorso fondamentale si è parlato di uso secondario dei dati ora questi dati devono poter essere utilizzati noi stessi con iniziative specifiche penso al registro vorremmo poter utilizzare con uso secondario questi dati e in parte non possiamo farlo è vero che c'è stata come è stata citata la proposta Lorenzin almeno per la ricerca qualche giorno fa però ci sono tanti tavoli vero che il garante ha detto che a livello di European Health Data Space sono state recepite molte istanze italiane però c'è ancora da fare e per risolvere questo anche perché dicevo ricerca ma la ricerca è un aspetto importante dobbiamo parlare di un unico ecosistema ricordando e cheggiando temi che sono stati toccati tra ricerca e cura e avrei voluto sentire nelle parole anche a partire dalle prime quindi dall'intervento del Ministro in poi un aspetto sottolineato che non è marginale il ruolo che il privato intendo le associazioni le fondazioni hanno nel finanziare ma non solo nel finanziare nel promuovere la ricerca sedendosi ai tavoli però bisogna farle sedere ai tavoli delle associazioni e in ultimo non voglio andare nel dettaglio di tutte le cose che la nostra associazione ha fatto insieme a Sine e continua a fare primo citato il registro abbiamo parlato di PDTA abbiamo parlato di Covid abbiamo parlato di Advocacy di DM70 eccetera ma credo che ci sia lo spazio per cui ciascuna associazione si sieda insieme a Sine insieme alle altre società scientifiche grazie e firmo con convinzione ovviamente grazie moltissimo e chiamerei a podio l'onorevole Elena Bonetti della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati no c'è proprio il suo spazio sì sì no in realtà perché avevo la indicazione può aspettare allora perfetto avevo timore che dovesse andare via entro una certa ora ok perfetto era questa l'indicazione benissimo allora la ringraziamo moltissimo onorevole e chiamo la presidente dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer un volto una persona a me cara Patricia Spadin benvenuta molte delle immagini che lei ci ha regalato in altri eventi me le sono portate dietro tutto il peso della malattia di Alzheimer grazie per essere qui la ringrazio moltissimo per quello che sta facendo e ringrazio ovviamente Sine per l'invito mi ha offerto l'opportunità di ascoltare pareri diversi interessanti puntuali e mi accodo a tutti questi interventi con brevi osservazioni Sine ha alzato l'asticella e qui tocca darsi da fare per starle dietro l'alleanza che abbiamo disegnato Aima e Sine negli ultimi tre anni per il bene delle persone con demenza per i malati di Alzheimer in particolare sui sette buoni motivi per non dimenticare e le sette buone proposte per essere concreti si apre oggi con il manifesto One Brain One Health ad un respiro globale inclusivo i temi sono quelli Governance Diagnosi Cura Trattamenti Innovazione Ricerca e Prevenzione Informazione e Riconoscimento e Sostegno e Caregiver ma sono declinati in un contesto più ampio che a partire dal concetto di One Brain riconosce la connessione con altri cervelli e la salute del cervello è la salute della comunità One Health Da conquistare e perseguire per il benessere e la buona vita di ogni individuo e di ogni creatura vivente connessa con l'ambiente Sono ammirata e spaventata lo devo dire ammirata perché il piano dell'OMS è ambizioso completo una strategia mondiale che può generare impatto positivo persino sull'economia ammirata perché la strategia italiana avviata da SIN in linea con l'OMS si propone interventi concreti in programmazione ricerca prevenzione e diagnosi e cura e nell'intera società coinvolgendo il vasto mondo interessato dei professionisti delle istituzioni e dei pazienti ma spaventata temo che il disegno più grande più alto più ambizioso ponga una distanza ancora maggiore dai bisogni dei pazienti che renda più lunga la strada per arrivare alle risposte vedete sono troppi anni 40 che attendo di arrivare ad una governance forte per l'Alzheimer e le demenze e ad una efficace rete di cura ad una diagnosi tempestiva ad un piano di azione e di interventi che colmi le disparità enormi regionali e disegni i percorsi di malattia e di cura rispettosi dei bisogni e dignitosi per le famiglie ogni volta mi correggo le rare volte che c'è qualcosa di nuovo e positivo come il fondo assisto non alla costruzione ma alla decostruzione del progetto in nome di una sanità un po' pavida che si guarda bene dal fare scelte radicali necessarie si barcamena senza innovazione colmando buchi pregressi rincorrendo servizi low cost fotografando misurando e normando ex post una realtà che non soddisfa più e tanto meno soddisfa i bisogni dei pazienti ho motivo di essere spaventata chi darà il coraggio la forza e l'impegno alla nuova strategia italiana per la salute del cervello per essere messa a terra arrivare ai pazienti e prima ancora ai cittadini chi sarà così visionario illuminato da comprendere che consapevolezza e responsabilità devono guidarci verso soluzioni come dice sin globali multilivello e pragmatiche mi permetto di ricordare che è in corso la riorganizzazione del ministero della salute che è stata costruita proprio attorno al concetto di one health nelle prossime settimane il ministero della salute dovrà ridisegnare le competenze di tutti i suoi uffici dirigenziali dando finalmente corpo alla riorganizzazione potrebbe dunque costituirsi un ufficio dedicato alla salute del cervello da cui dipenda un tavolo permanente in grado di rapportarsi al bisogno con tutti i diversi dipartimenti prevenzione programmazione educazione stili di vita soltanto una governance solida può portarci fuori dall'impasso in cui siamo un altro suggerimento in linea con la strategia italiana una ricognizione con ministero e agenas di tutti i percorsi diagnostico-assistenziali oggi esistenti nei diversi ambiti della neurologia l'alzheimer può essere un banco di prova per rendersi conto numeri e dati alla mano di quanto i percorsi non funzionino su tanti territori e quanto non siano adatti ai bisogni dei pazienti di oggi e di domani per rilanciare servono numeri e idee non fondi distribuiti a pioggia non progetti soprattutto a basso costo non cattedrali nel deserto non eterne attese di decisioni coraggiosi sì sono spaventata e preoccupata non voglio ricominciare a costruire una strada di cui nuovamente non vedrò la fine non me lo posso permettere io per età ma soprattutto non se lo possono permettere pazienti e familiari che hanno speso ogni soldo e ogni energia nell'attesa sono qui perché la competenza di SIN mi tranquillizzi di fatto gli specialisti sono gli unici a sapere cos'è la demenza e che cos'è l'alzheimer a sapere che succede nei lunghi anni di malattia voglio tenermi stretta la speranza e se sì mi aiuta che la salute del cervello riguardi anche noi grazie sono convinta che firmerà eccoci qua la speranza c'è e la SIN manterrà viva questa speranza suppongo la ringrazio moltissimo in chiusura l'onorevole Elena Bonetti che ringraziamo per essere qui perché abbiamo detto all'inizio per diffondere questo nuovo approccio alla salute c'è necessità di un confronto con le 6P una di queste è i politici grazie benvenuta grazie intanto davvero grazie per questo invito ringrazio la SIN e devo dire che purtroppo non ho seguito direttamente i lavori di questa ricchissima e intensa giornata perché avevamo contestualmente lavori in aula ma ho avuto modo insomma di ovviamente prendere visione dell'impianto strategico della strategia e le voci di chi mi ha preceduto hanno dato conto anche di questa visione non solo sinottica delle diverse aree che agiscono sul tema della patologia del cervello ma anche della capacità e della necessità oggi oserei dire urgente di ridisegnare davvero un patto un'alleanza che non sia solo di governance e di attuazione del processo ma che sia davvero una presa in carico a tutto tondo non entro nel merito degli elementi più tecnici scientifici non compete alla politica farlo quello che non compete nemmeno alla politica fare è limitarsi al commento alla visione diciamo che tanto spesso come politici ci vede interessati ma che non va a quagliare su quello che deve essere anche la capacità di dare un execution a tutta la visione che oggi avete portato avanti senza sostituirsi alla parte proattiva necessaria di analisi e di proposta che viene dall'elemento scientifico ma avendo la capacità di non solo creare processi che sostengano questo percorso ma anche di fare dell'azione legislativa la facilitazione e l'attivazione delle leve e allora su questo mi permetto di fare alcune puntuali osservazioni uno dalle riflessioni che sono emerse è chiaro che in particolare la questione patologia del cervello come organo complesso di interazione necessita diciamo proprio nella sua matrice che lo definisce di un approccio che sia in grado di superare lo schema attraverso il quale oggi a livello istituzionale delibera e governa i processi nel nostro paese soprattutto nell'ambito della salute della medicina si è parlato di riordino del ministero della salute io ho avuto modo di lavorare sia nella parte del governo e adesso nella parte del Parlamento e mi sono resa conto di come la struttura attraverso la quale noi lavoriamo a Silos con bilanci distinti tra i diversi livelli istituzionali all'interno dei livelli istituzionali tra uffici diversi tra il livello della medicina territoriale e quella specialistica e quella della società scientifica ecco questo che ha negli anni favorito un percorso di specializzazione di risposta puntuale oggi è del tutto obsoleto inadeguato per affrontare invece la nuova sfida che la medicina e sono molto d'accordo sull'idea che la persona non può essere al centro come passivo fruitore di scelte altrui ma deve essere parte integrante del processo decisionale di attuazione anche nell'ambito della presa in carico di una medicina che sempre di più va sul tema della medicina personalizzata ma anche su un tema demografico che interessa la nostra popolazione perché non dimentichiamoci che tutta questa strategia si deve intersecare su un processo di transizione demografica che non è solo l'età della nostra popolazione ma è diciamo la differente tipologia con cui si invecchia in quanto si invecchia o si previene un certo tipo di invecchiamento col quale dobbiamo fare i conti alla luce di questa considerazione mi permetto di dire che il tavolo di legislazione principale non può più essere la conferenza Stato-Regioni in cui il Ministero della Salute va e concorda bilanci alla mano con le singole regioni gli interventi frammentati su queste materie altrettanto mi permetto anche di fare un'osservazione che non si può più prescindere nella programmazione diciamo anche concreta per esempio di una necessità di mettere insieme l'azione politiche sociali politiche educative formative politiche della prevenzione nell'ambito della salute politiche della presa in carico della salute senza avere un tavolo congiunto di governance noi in Commissione Affari Sociali abbiamo la legge sul caregiver oggi vari colleghi l'hanno presentata parlo di una legge che io non ho una legge a mia firma sul caregiver ho lavorato quando ero Ministra per esempio sul tema del caregiver e uno dei capitoli che nel riparto dei fondi del caregiver avevamo individuato era stato in particolare in un'epoca in cui si necessitava sul tema per esempio in particolare della questione dell'Alzheimer e delle demenze anche per le famiglie che hanno una precoce diciamo presenza di questo tipo di patologia perché ci si era resi conto che per quella tipologia di presa in carico del caregiver all'interno di quei nuclei familiari serviva una risposta specificamente indirizzata io credo che uno dei capitoli di attuazione di questa strategia sia proprio l'intersezione con una legge apparentemente di un altro capitolo perché sono due ministeri diversi che però di fatto necessariamente devono essere reintegrati in un approccio sinergico stessa cosa una proposta di legge trasversale che abbiamo presentato con tutti i parlamentari che è quella di introdurre finalmente la necessità del coinvolgimento dell'associazione dei pazienti con anche un criterio di riconoscimento quindi non solo dei pro ma proprio nei processi decisionali sia dell'agenzia del farmaco sia del ministero della salute questa è una legge oggi depositata che io spero che possa avere una conseguenza importante ma non è semplicemente un tema della rappresentanza ma è un tema anche di necessità di valutazione di misurazione dell'impatto terzo tema sulla quale ovviamente io mi permetto anche per mia sensibilità di arrivare è quello della formazione dell'educazione l'elemento oggi di formazione mi permetto di dire nell'ambito della medicina del personale che va sia dalla facoltà di medicina di tutto il personale sanitario deve allargarsi a una visione di competenza che abbia inevitabilmente un impatto di attuazione socio-sanitaria questo lo dico anche in relazione per esempio alla presa in carico di quelle patologie che possono essere individuate in età infantile o infantile-adolescenziale che spesso hanno come unico elemento di interlocuzione l'elemento della scuola la quale oggi non ha gli strumenti adeguati per magari andare a intercettare alcune significative sintomi o viceversa dare delle risposte adeguate è una formazione davvero a tutto tondo che noi dobbiamo ridisegnare in questo contesto anche nell'ottica di una prevenzione ultimissimo flash e chiudo questo è un'europea forse ne avete parlato vabbè tramite ovviamente il tema OMS è ancora più ampio oggi però io credo che l'Europa del post-covid non possa tornare ad essere un'Europa nella quale una strategia di presa in carico della salute integrale della persona come è nella strategia non diventi un tema di alleanza di strategia europea noi abbiamo visto che l'Europa nel momento più drammatico l'ha fatto su un contesto che è stato quello della vaccinazione della presa in carico delle spese sanitarie del tema della risposta alla pandemia ha però dimostrato che solo in un'ottica sinergica strategica mondo della ricerca mondo degli investimenti del privati che sono stati citati mondo delle governance dei singoli stati ha potuto fare ha potuto fare la differenza al di là del fondo del MES che penso sia stata un'occasione persa non prenderlo quello sanitario intendo oggi in realtà un elemento di investimento in un'alleanza tra il tema della ricerca non solo di carattere farmacologico il tema della rete delle formazioni nella città e il tema anche della presa in carico delle politiche socio-sanitarie a livello di Unione Europea credo che possa essere anche come dire una delle prospettive molto concrete su cui come istituzione come politica possiamo lavorare in un'alleanza con tutti i soggetti che oggi sono qui presenti grazie grazie a lei firma firma abbiamo avuto delle eccoci qua perfetto sì allora io direi che possiamo invitare sia il professor Padovani che la professoressa Leonardo a sedersi e ci avviamo alle conclusioni ringrazio moltissimo il professor Zappia per avermi accompagnato in quest'ultima sessione allora abbiamo raccolto delle firme anche impreviste e il mio obiettivo era riempirlo questo manifesto di firme e mi ritengo molto soddisfatta e voi? io molto soddisfatto però lascerei prima di fare le conclusioni un intervento a Matilde con la quale abbiamo condiviso questa chiamiamola scommessa che noi riteniamo oggi di aver vinto insieme a tutti quelli che sono qui io non ho meriti particolari non voglio avere meriti particolari se non quelli di aver insieme a tutti creato le condizioni perché oggi fossimo qua e ovviamente il successo lo si deve alle persone che sono qui quindi io non voglio avere meriti però Matilde io credo che da oggi emerge un passo avanti è stato detto l'Asticella grazie Patrizia Spadin l'abbiamo alzata un pochettino però Matilde ha già raccolto la sfida vai perché assieme anche a Paolo Calabresi con la SIN quest'anno noi abbiamo intenzione di rivitalizzare la FIAN che era la Federazione Italiana delle Associazioni Neurologiche noi in Italia avevamo ricreato una ventina di anni fa l'EFNA che è l'European Federation Neurological Association e abbiamo pensato che sia importante ricreare la Federazione delle Associazioni dei Pazienti Neurologici rimetterla in piedi farla ripartire è emersa anche oggi la necessità di avere una voce e per questo già al prossimo convegno nazionale della SIN ci sarà posso già dire il sabato pomeriggio quindi che precede la cerimonia di inaugurazione la SIN ha destinato alla ricostituenda FIAN tre ore di tempo nella quale noi coinvolgeremo non solo le associazioni che ci sono qua oggi chiaramente non ci sono tutte le associazioni dei pazienti neurologici che sono ben molti di più e che noi vogliamo assolutamente ricoinvolgere in una associazione diciamo federativa perché si siedono al tavolo con noi e assieme al professor Calabresi nei prossimi giorni ne parleremo per dettagliare meglio come riavere presenti tutte le associazioni e cercheremo poi di portarle al convegno di Roma alla nuvola in una maniera che sia interlocutoria proprio per appoggiare in one health one brain one voice grazie bene pochi minuti per ringraziarvi intanto la seconda è per fare dell'intervento di Scopinaro e di battaglia così come quella di Spadin un po' il nostro impegno abbiamo voluto oggi insieme a professor Berardelli con il quale vi è una continuità e con il professor Zappia con il quale vi sarà una continuità segnare non solo voglio dire l'impegno della neurologia ma avere insieme la geriatria la neuropsichiatria infantile e la psichiatria siamo certi che le associazioni dei familiari e le società scientifiche possono fare molto però noi oggi abbiamo fatto qualcosa di nuovo siamo venuti qui dentro e abbiamo chiesto alla politica di ascoltarci la politica è la gente come noi non è facile nemmeno avere soluzioni perché la realtà è molto complessa io lavoro in un dipartimento aziendale territoriale ci sono il direttore di una struttura che deve inventare la messa a terra di M77 in una provincia ricca una provincia che funziona dal punto di vista sanitario che è quella di Brescia però da accademico cioè da ricercatore è un bagno di umiltà perché si entra con dinamiche diverse rispetto a quelle che normalmente siamo abituati a fare siamo usciti dalla pandemia probabilmente più ricchi e certamente diversi e quando dico diversi dico abbiamo capito che da soli non contiamo nulla nemmeno come neurologi esperti di io ho fatto il covid così come molti di voi nel senso abbiamo lavorato per i pazienti e abbiamo raccolto un po' le macerie di un sistema sanitario che è andato un po' in tilt ma grazie a tutti noi è rimasto in piedi ora il PNRR ci dà delle grandi opportunità a volte prevale il sentimento della lamentela della rivendicazione del risentimento noi qui oggi sposiamo la idea della speranza di poter insieme costruire un futuro diverso per noi ovviamente che ci lavoriamo per la politica che deve dare le soluzioni e soprattutto per tutti quelli che si ammalano o sono già ammalati non vogliamo portare il paziente al centro noi siamo con il paziente insieme a cercare delle soluzioni per cui ringrazio l'onorevole Bonetti che ho conosciuto non molto tempo fa in un aero tornando da Bruxelles ma devo anche ovviamente ringraziare Anna Rita patriarca per la forza l'entusiasmo Beatrice Lorenzin Cappellacci che non è potuto venire come Baiocchi e come Ciocchetti che avevano promesso di venire ma a nome di questi io vi porto i loro saluti e ringrazio Nicoletti con il quale c'è una lunga storia addirittura quando ministro era Ferruccio Fazio e sono contento di averti ritrovato qui grazie a tutti ovviamente ovviamente devo ringraziare Raffaella Cesareoni che è il vero no allora io per parte mia grazie a voi per avermi voluta per parte mia posso dire quel voice che serve la comunicazione non la dimentichiamo mai il mio pane quotidiano da parte mia la promessa se volete firmo anche io il manifesto a livello come dire proprio come come messaggio che vorrei dare perché con me questi temi troveranno sempre spazio e con voi ci sarò sempre per questa sfida in questa alleanza grazie davvero la prima di Scani certo porca miseria eccoci grazie a tutti grazie a tutti